mi piace questo google carino è perché la telecamera era attivata dall'altra parte la devo disattivare e riattivare ok ecco fatto eccoci qua ciao olivio siamo in ritardo perché stavamo in live da un'altra live e di conseguenza abbiamo fatto darlo porco olivio è l'unica cosa giusta porco olivio allora dato che tu hai parlato poco puoi sfogarti adesso per quanto mi riguarda io sono d'accordo quasi su tutto non mai convinto per quanto riguarda della saga di big mom nel momento esatto in cui tu parti dal presupposto che per te quel personaggio ha senso di esistere in quell'universo in quel mondo e mi riferisco a wano io e te abbiamo visto semplicemente due manga completamente differenti perché quella tizia viene depotenziata e nerfata perché in quell'occasione necessita di essere così proprio perché il protagonista l'attore principale deve essere cato ma spiega un attimo il contesto si parla della saga di wano del personaggio di big mom che semplicemente all'interno di quella narrazione finale viene messa a schermo come un personaggio che lì viene assolutamente depotenziato sia in termini di forza combattiva perché prcosontestes viene improvvisamente diventa una tordellona che non capisce più niente viene fatta combattere tendenzialmente con nemici che non sono all'altezza di quelle che dovrebbero essere le aspettative che tu hai nei confronti di un personaggio come big mom e semplicemente a schermo viene messa anche dal punto di vista semplicemente del minutaggio di meno le battaglie più importanti non le fanno stavamo da arena flame forum dove praticamente c'è stato un dissing su one piece e io sono cioè francesco ha preso un po' in mano le redini ma no ma che cazzo devo dire io va perché a una certa le risposte erano specialmente un ragazzo era eh ma tu non l'hai letto eh ma tu non lo sai e poi faceva le domande cioè lui rispondeva senti ma tu te lo ricordi ciao amici ciao bottega e ti entra nel verito e quindi ci siamo flammati abbastanza abbiamo avuto il nostro frame internosso no poi ripeto cioè nel senso io ma che vedo cioè nel senso hai parlato poco ciao la bottega secondo me hanno letto hanno visto anime night hanno letto hanno sentito quello che ho detto io e l'hanno ripetuto bravo è stato molto bravo beh che eravamo tanti il tempo era poco quindi no ma a prescindere cioè a prescindere cioè ma io che te devo dire nel senso io a parte tu dovevi essere dalla loro parte no beh beh io ho cercato di rimanere leggermente un po' in disparto ma anche perché tutti gli altri erano pro cioè io non ho capito chi era l'altro che era contro One Piece no no in teoria in teoria dovremmo essere noi quelli contro One Piece no tu eri dalla parte dei forza One Piece sì sì in teoria era nata così la cosa ma credo che poi si sia sviluppata in modo completamente differente anche dal loro punto di vista perché hanno visto vabbè noi siamo troppi quelli sono tre fai che giochi con la squadra avversaria perché non arrivano a 5 a carcetto il problema è stato veramente un casino perché finché siamo noi tre ciao Sand noi siamo tre chiacchieroni io forse un po' meno ciao Rob però ad esempio voi due partite con i treni ok voi partite con i treni finché siamo in tre va bene quando si è in sette no ma anche perché il fatto è che io parto con i treni ma alla fine del treno non si è capito niente cioè mi fanno la domanda dell'inizio del treno stai iniziando a sopravvalutare hai capito che stai sottovalutando l'intelligenza di chi ti sta intorno ma io non l'ho mai fatta non l'ho mai fatta questa cosa non è vero non è vero ciuf 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 no ma cioè poi ripeto ma se domani volete parlare che ne so dei codghias perché vi è un capolavoro una casa una casa strano venite su telegram tu non ne vuoi parlare venite su telegram perché io ho messo tutti i miei forum dei miei amici anti codghias cioè tu c'hai i forum anti codghias sì sì ma è diventato un militante maggi quando mi pare e lì allora posso però non lo riattacchiamo non è questa la live oggi sono io il tuo nemico no e credo che sarò il nemico di me stesso a un certo punto no perché già lo so che non sarai abbastanza non sarai dicendo se non sei all'altezza a un certo punto a un certo punto a un certo punto faccio il marzullo si dia una domanda se faccio una domanda si dia una risposta perché secondo me io ti voglio soltanto ricordare che il tuo cruccio più grande è su Zacco che schiva le pallotte no 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 perché tu non l'hai letto ok e oggi infatti lo dico perché per quello dico venite su telegram perché finalmente uno dei più grandi miliadoriani mai esistiti sulla storia Max che sta in chat si è ricreduto finalmente so piano piano io l'ho detto ma io ti ho sempre creduto io sono stato quella mano sulla tua spalla e tu non la vedevi una mano silente invisibile comunque hanno fatto hanno fatto frame by frame e sono cinque i passi si vabbè c'è anche il salto che tu non prendi in concessione ma c'è il salto eh no no mi sembra che stai piano piano no no che piano piano cioè Max fino ad abbiamo andato lì è addirittura bellissimo andato a guardare addirittura il campione del mondo di salti di corsa sul muro orizzontale bellissimo che poi lo vedi fa tipo due tre passi ma giù al testo sta sbire come che gliela fa giustamente no no vabbè dai comunque oggi oggi discuteremo su gt io sono quello che lo dovrà demolire dovrà cioè non è che sono quello che deve lo demolirò cioè perché c'è poco di gt fa cagare tranne un paio di cose magari ne parliamo dopo l'han predotto invece il caro Maggi difenderà bellissimo secondo te bellissimo Dragon Ball gt ma assolutamente sì allora io non sono c'è anche z è proprio no no senta tu sei la testa di cazzo perché secondo quale teoria cioè quindi tu ti sei fatto gli appunti su Dragon Ball gt ovviamente sei la testa di cazzo e non dirò perché il live tu dirò dopo no 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 ho capito ho capito dove andare ho capito dove andare a parare è roba di stamattina e sti cazzi ho capito che cazzo me l'hai detto ieri sera io stamattina comunque io sono più tecnologico quindi ma che cazzo qua c'hai roba scritta pure te ma c'è e allora che cazzo dici che confronto hai se no ma io ma come ma l'altra volta tu c'hai gli appunti e lui no ma che vuol dire chi difende vabbè vabbè questa è una cazzata cioè l'appunto tu ti devi fare te gli appunti ti devi fare lui gli appunti no no che lui dice che lui ha trovato il tempo per fargli gli appunti stamattina lo fa ok stamattina eh bravo bravo va bene va bene tanto non riuscirai non riuscirai a rompere la cosa che gt è fatto male ok va bene allora ma bob e mo ti spiego perchè è bello gt bam bara 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 solo per quello ma è bellissima quella cosa non hai capito allora gt meglio di super super non esiste roba semplicemente allora ecco un altro team livio non esiste parti da sto presupposto allora intanto io voglio far partire un poll in chat per vedere se il pubblico è pro o contro gt si va capito ma argomenta prima almeno qualcuno vabbè voglio vedere dall'inizio vabbè parto io allora intanto non stai a scrivere parto io la cosa che tu devi capire è che l'idea concettuale che c'è alla base di dragon ball gt è innanzitutto perculare se stesso ovvero non c'è prova non ci provare proprio e mo ci arriviamo passo passo vai 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 semplicemente percula se stesso e nel perculare se stesso lo omaggia se tu riesci a capire parti da questo presupposto concettuale capisci pure perché inizia così quindi anche matrix è bellissimo il quarto matrix beh scusa si auto percula è bellissimo si ma ti contraddici da solo no 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 20 minuti si auto percula poi il resto è tutta una roba seria non è vero invece la bellezza la bellezza di dragon ball gt è che è un certo gt magico super no dark super non esiste è troppo facile allora come inizia ma non è gt contro super è solo gt come comincia come comincia la ricerca delle sfere bellissimo come comincia prima puntata pilaf che li mette a schermo pilaf che è quello che tutti vogliono vedere a marcord pilaf che parla e che gli dice cazzo quanto è forte Goku voglio che Goku no vabbè gli dice vorrei affrontarlo come quando era giovane quanto sarebbe bello se fossi e il drago stupido dice ok hai espresso il desiderio spiega no ma non era un desiderio ah ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta non era un desiderio quindi diamo del senso logico a tutto dragon ball gt no no a dragon ball gt ho capito però parliamo di dragon ball gt oggi si si va benissimo per me va bene allora perché semplicemente li sta percolando tutti quanti ti spiego io mi sono segnato dei pro di dragon ball gt e uno dei pro è appunto questo la trama intrinseca è figa cioè il fatto che vengono trovate nuove stelle del drago che stranamente i rilevatori non trovano ma vabbè sono diverse stavano lì non si sa da quanto come va bene ok stavano lì le sfere dalle stelle nere bellissimo ma arrivano dice l'attacco di drama ci può anche stare bellissime sfere nere no no vabbè palle con le sfere nere vabbè ma no per quello che poi rappresentano quando arriveremo a Sherron rappresentano una cosa ci arriviamo ci arriviamo piano piano no è che che gli hanno scritto che gli hanno detto a Mediator che non sa leggere quindi adesso va a controllare se sa leggere in realtà è che io l'ho visto l'anime di quel pezzo però nell'anime dicono così ma penso che non è che se lo inventano anche io non ho visto il sangue in Death Note anche se poi vabbè scena una ghiazzetta così però quella è censura che c'è tapo piano quelle altre sono frasi media dei bellissimi capelli grazie dai che sta di dire la cazza dai l'attacco di trama in realtà è interessante parli dell'inizio della prima saga sì sì allora i primi 25 episodi no 25 i primi 25 25 episodi significa che sei quasi a metà dell'opera perché l'opera sono 64 episodi non sei a metà ho detto quasi poi si può dire che 64 stai quasi a metà dell'opera più o meno sei un po' meno di metà vabbè mi attacchi questa trama che essenzialmente se tu vuoi tornare agli inizi ok ci può anche stare c'è solo un piccolo problema che è fatta di merda che cosa i primi 25 episodi sono una palla sui coglioni e ti spiego anche il motivo perché il motivo è molto semplice tu puoi tornare indietro ma vai tranquillo tu puoi tornare indietro tranquillamente cercare di ripercorrere Goku bambino bellissima a parte che ci sono anche dei problemi grafici che adesso mamma mia ti attacchi a sta cazzata Goku c'ha la pelle scura ti attacchi a ste cazzate si Goku c'ha la pelle scura si vabbè ma che te devo dire perché Goku c'ha la pelle scura cioè io ti giuro io non mi sono mai attaccato si è abbronzato vabbè magari si è abbronzata e rivale per un anno con la pelle scura partiamo dalle basi come i capelli vabbè partiamo dalle basi non si è mai no 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 perché sono tre no no stanno il viaggio perché sono tre no aspettati mi fai spiegare il perché dei primi 25 episodi i primi 25 episodi fanno schifo ok comunque lo dice Barbanera nel manga non cioè Barbanera lo dice a Ace non è Ace che sta dicendo da solo il concetto però scrivete il concetto vabbè però non è proprio la stessa cosa perché un conto è che se lui se lo dice da solo e no però e però se Barbanera te lo dice vuol dire che c'è quel concetto in un office l'ha scritto Oda no no c'è l'ha scritto Oda comunque qual è il problema di Dragon Ball GT perché alla fine la ricerca delle sfere nello spazio è un ritorno al passato figo cioè è un attacco di trama che ci sta bellissimo il problema è che loro sono troppo forti loro sono a un livello tale in cui la ricerca delle sfere del drago mi rende tutto futile perché sono troppo loro vanno in un pianeta c'hanno il radar cerca sfere e loro potrebbero andare dritti e prenderle tutte e invece no che cosa fanno ci sono tutti questi espidenti narrativi che non reggono è Got Trunks che si deve vestire da donna perché deve andare dal tizio che potrebbero sbracare in due secondi non hai capito se loro fossero forti come il Dragon Ball iniziale ci avrebbe più pathos invece tu sai nella consapevolezza e questi qua se si trasformano in Super Saiyan le sfere le recuperano in tre mesi Goku contro Gold e Silver saga filler prima del 22esimo torneo Tenkaish lui li schioppa in un secondo è quello che ti sta facendo rivedere le saghe filler sta parte da un concetto di base e ti fa vedere come in realtà quello che conta non è il combattimento non gli ne frega un cazzo a nessuno lì a te ne frega qualcosa è il combattimento contro attenzione la gente vota pro Dragon Ball gente cambierete idea ma tu pensi che a qualcuno gliene fotte tu quando guardi quella saga pensi al combattimento no il combattimento non gli ne frega un cazzo ma è Dragon Ball certo ma perché tu lì stai ripercorrendo l'inizio di Dragon Ball no è l'inizio allora tu immaginati è quando lo vai in giro no no ascolta quando lo vai in giro bellissimo certo è bellissimo ma tu immaginati e panna vestita d'ave bellissimo pulma vestita da coniglio contro grande uomo che ti trasforma in carota è quello che ti sto dicendo l'idea l'idea ci sta il problema è uno tu immaginati uomo baffuto mostro baffuto tu immaginati Dragon Ball prima serie dove Goku bambino si può già trasformare in Super Saiyan 3 non esiste tu la guardi quindi loro hanno provato il combattimento loro hanno provato è tutto combattimento ma che cazzo dici io mi sono andato a rivedere le saghe iniziali quelle di per quanto riguarda l'orso quando l'orso bandito ah si Dragon Ball è tutto ma è la cazzuata l'orso bandito lo sconda il grande mago piccolo l'ascesa negli inferi tutto il combattimento e se Goku lì fosse stato Super Saiyan 3 Dragon Ball sarebbe durato tre puntate è il viaggio quello che conta è il viaggio è una cazzata questo però spesso lancia in favore di Dragon Ball cioè loro non recuperano le sfere in maniera istantanea perché comunque sia rimane una filosofia del combattere solo il malvagio cioè tu se recuperi la sfera del drago con la forza sei tu il cattivo quindi quindi Goku non recupererebbe mai una sfera che è in possesso di qualcun altro con la forza ma no ma cioè la saga è per quello che nascono tutte quelle cose si ma il problema è che sono 25 episodi ma non è vero in cui ti sai che Goku potrebbe risolvere la situazione ma non lo fa non sono 25 episodi sono 25 episodi no perché la ricerca delle sfere sono 25 episodi no perché c'è Babby c'è Babby in mezzo l'ultima puntata ma non è 24 prima no le saghe quelle di cui parli lui è per forte sono i primi forze quando c'è già Lud il cultista già lui non lo può sconfiggere il cultista perché ci deve essere una cosa come Garou colpo simultaneo e lì allora lì lì è una cazzata perché ti dicono che il generare Lud te lo dice Lud no generale quello generale Lilde ah Lilde quello prima quello che trasforma in bambole ma tizio baffuto è il maiale delle prime episodi ma lo capisci che non è non c'ha lo stesso impatto ma ti sta perculando ma cosa il Dragon Ball GT si percula l'inizio di Dragon Ball GT non ti percula no è semplicemente scritto male no perché i fratelli Parabara non ti stanno perculando quello è cercare di riprendere la comicità del primo Dragon Ball ma non si percula quella è una grande è la perculata è quella che mi vuoi far passare chi sono i fratelli Parabara che fanno che fanno le pose quella ti sta perculando la squadra Giniu che erano sei la squadra Giniu ma la sesta l'hanno cacciata perché non sapeva fare le pose è una perculata sono tre i fratelli Parabara non è che può mettere sei persone a schermo ma allora che cazzo mi dici il numero se quelli sono tre gli altri l'idea la base c'è la gente che fa i balletti che fa le pose e quindi è una perculata è una merda e poi diventano bellissimi perché anche perché a livello tecnico a livello tecnico e tu solo sul livello tecnico no ascoltami ascolta no no non ti fai un cazzo su zappi schiva le pallotte che vuol dire mica a livello no io ti per tecnico che intendi con tecnico io ti spiego tecnico la messa in scena l'animazione quella intendi no no non a livello tecnico quello è a livello tecnico a livello fisico a livello fisico ok allora ascoltami parli quel meglio ascoltami ascolta non sa parlare meglio ascoltami spiegami per quale cazzo di motivo ad esempio i fratelli Parabara dovrebbero avere più resistenza di Goku e Trunks di panna te lo posso pure accettare perché non dovrebbero cioè no no sai che c'è è abbastanza cioè perché no ma tu perché tu guardi al presupposto che siano più forti sì sono molto più forti ma non è sì ma perché loro te lo dicono proprio noi siamo delle pippe e il nostro unico che fa stancare la gente ma Goku ha una resistenza che quelli là è mille volte superiore perché si stancano prima invece quelli a ballà continuano ma perché è sempre lo sforzo fisico ma per quello è un potere è un potere di che è il potere del è tu non cogli ironia è ironica la cosa sta perculando la squadra che fai e allora Matrix 4 è un cavolavoro i primi 20 minuti sono bellissimi no tutto tutto era perculata quindi bellissimi ma di cosa poi ci parliamo no no io adesso dobbiamo la squadra di Matrix 4 no no però per dire una volta sostiene una cosa una volta sostiene un'altra no no io quello che ti dico è che tu ti sei fissato sul fatto che i fratelli Parabara sono messi lì semplicemente perché ti sta facendo rivivere a Markord tutte quelle scene comiche della squadra genio in cui fanno le poste i fratelli Parabara è bella bella Max c'è il pisellino ma non è vero ti sta sul cazzo Livio è bello ma quando ma quando c'hanno la ritenzione che la ritenzione che ti fa capire che in realtà tutti quanti eh no sono andato a controllare bravo Max sono andato a controllare sul manga a piccolo inciso c'è una chiazzetta così ma non si vede nemmeno è disegnata malissimo e comunque è una merda è una merda è una merda perché se tu caschi dall'ottavo piano c'è praticamente il lago trassi dai madonna il tiro splatter allora tu ti attacchi a questi dettagli e ti do qualche dettaglio io ok ma quella non è ironica no 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 tu non cogli allora io ti parlo quello lì che gli cava il dente bello gigante ma ironico si ironico ma tu sai che Goku il Dragon Ball GT potrebbe risolvere un attimo entra dentro la bocca prende la sfera e se ne va ma è un bambino no no lui ha la mente del bambino lui si diverte a fare quelle cose è un bambino c'è stato di cazzo non è vero non è vero e se no mantieni i ricordi no non so perché mantieni i ricordi no Goku ha il fisico del bambino ma è lo stesso Goku e poi Goku anche a 50 anni c'è un ragazzino c'ha tutte le cose emotive quando va nel pop e poi ci vediamo quando va negli inferi che fa io l'ho messo qua perché volevo combattere un trotello e freezer e si mette a piagni perché non ci sono trotello e freezer con cui l'ho da combattere si comporta un bambino è una macchina di Lud dei cultisti lui sta che è una merda che è una merda che è una merda siamo sino all'episodio 10 che è una merda ma invece no perché i fratelli Parabara che ti sono fatti misti a schermo come degli scemotti poi alla fine hanno tutto il plot twist loro perché li caratterizza che ho gente che in realtà lì ci sta semplicemente perché c'è un tizio più forte di loro che li schiavizza se non muoiono ed è una cosa che in Dragon Ball compare sempre la retenzione ti rendi conto che il generale Lud Lud scusa è una macchina è una macchina è una cosa che Goku va dritto lo buca in due finito no non lo puoi fare perché perché deve essere ucciso contemporaneamente dentro fuori deve essere colpito contemporaneamente e te lo dice lui però è così c'hai la cosa è così lo capisci che il problema è che il pathos viene a mancare no cioè il pathos è come se tu prendessi la prima saga di Dragon Ball e mettessi Goku Super Saiyan 3 non ci sarebbe Dragon Ball ma non è vero perché tu la guardi la tensione la tensione c'è finché non tratti cose politiche comunque che non c'è la forza ma è tutta l'introspezione dei personaggi è tutto che lui potrebbe andare dritto e farlo e la cosa è che molte volte il nemico è cattivo sono nemici cattivi e non è che dici allora diventi te il cattivo no perché tu stai andando contro il cattivo quindi dipende dipende sempre dipende quando si scopre che effettivamente il nemico è cattivo e se ci sono delle implicazioni per cui loro magari vogliono salvare degli altri tizi nel pianeta però per dire c'è il mostro che crea i terremoti siamo a puntata 5 sarà 5-6 ma quello non crea terremoti quello è bellissimo quello è bellissimo è inonica per dio posso? c'è questo tizio che c'è i baffi e quando li fa ondulare crea i terremoti ok? un coglione ma non crea i terremoti e che cosa posso? loro che cosa dicono? gli dobbiamo tagliare i baffi e cosa va? c'è Trunks che va e Pan con le forbici giganti che non si devono far vedere vai là glielo tagli fai zacco con la mano è tagliato è una merda qual è l'ironia cosa sta citando? il sorcio che taglia la cota a Goku ma li capisci? sono riferimenti ma sono riferimenti fatti male non è vero perché quello è il maiale è il maiale che si trasforma se tu riprendi le cose però il protagonista potrebbe risolvere la situazione non ha senso di esistere non mi stai capendo l'ironia ma va bene l'ironia ma me lo puoi costruire meglio quello che dice Livio è che l'ironia funzionava meglio cioè tu citi un'ironia di un periodo di Dragon Ball in cui il power level era abbastanza basso a giustificare quegli sketch comici e adesso invece è uno sketch comico forzato perché sappiamo tutti che se invece loro andassero come dovrebbero andare la velocità che dovrebbero andare con la forza che dovrebbero andare non ci sono le esatto ma le putta quando è tutto là e infatti le prime 25 puntate 25 su 64 sono la ricerca delle sfere ed è una merda ma perché il verbone che li magna a un certo punto quella è cita Star Wars peggio me sento però per dire no ma devi capire questa cosa perché anche lì non ci avrebbe senso schioppa così invece è tutto un citazionismo ma non mi interessa se tu fai delle citazioni buttate così che non hanno senso esiste è una merda maggi mi puoi mettere pure 170 puntate di citazioni bello però se poi non regge la trama è una merda ma che trama c'hai ma i primi episodi di One Piece che trama c'hanno di One Piece di Dragon ma che trama c'hanno lui che va con Bulma sono contestualizzato ma ti rendi conto perché li mette in tre e mette una donna perché loro sono chiaramente Krillin Bulma e Goku è fatta apposta peccato 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 che Goku Krillin e Bulma vanno in giro a trovare le sfere maggi vanno in giro a trovare le sfere te lo dico io solo loro tre te lo dico io a un certo punto sono solo loro tre come no quando il sottomarino ma vattene a fanculo maggi per favore è so tre il sottomarino che cazzo dì però apprezzo la prontezza no no si 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 va bene diciamo che per una minima parte c'è stata una congiunzione a strada per cui sono tre comunque partiamo un attimo andiamo un po' tranquilli poi sono tre all'inizio pure all'inizio all'inizio lo sai quando arriva Krillin no Krillin sono tre con il maiale all'inizio di allora non è Krillin sono ok poi io ti ho detto che quello rappresenta Krillin poi anche lì ma lì alla base è la triade anche lì si unisce subito Yancha con Puar cioè sono proprio sprazi di tempo ti sta mettendo tre persone a schermo per dirti guarda ricordati che quando loro cominciano il viaggio sono tre questo ti sta dicendo io ti spiego una cosa sai perché ha preso quei tre personaggi perché sono quelli allora Goku come ci mette Goku Trunks c'ha sia il fatto che credo sia uno dei personaggi più amati e poi perché c'ha come Bulma la cosa che è tecnologica Pan doveva inserire sicuramente una versione fernile che richiamasse in parte Bulma e che potesse essere tranquillamente anche la spalla comica ma poi Pan c'ha tutta un'evoluzione bellissima che lei si sente insicura perché ad esempio non c'è Vegeta dentro la nave o Gohan non ha senso che ci sia Vegeta perché come ti ho spiegato prima è una cosa che viene vista in chiave ironica quindi i personaggi che devono andare a fare questo viaggio sono personaggi non seriosi personaggi che si prendono in giro te ce lo vedi Vegeta vestirsi da donna Vegeta vestirsi da ape allora ti spiego il fatto è ha messo quei tre personaggi perché se avesse messo altri personaggi più forti sarebbe andato tutta puttana e quella è una forzatura narrativa enorme loro entrano nella navicella e c'è Pan che fa vabbè partiamo qua c'è in gioco la distruzione della terra e mi spieghi per quale motivo esprimi un desiderio su un pianeta e poi quel pianeta deve essere distrutto va bene me la collo va bene sai quanto ci oh devi partire per lo spazio sta partendo Pan Trunks e Goku stanno partendo sono Gohan Vegeta oh è in gioco il futuro della terra zoom zoom e mi riporto giù astronave vabbè però questo è se c'è sempre grande ragazzi andate ma questo è bravo bella ragazzi buona ciao Arena buona notte buona sera grazie mille ciao Arena abbiamo avuto la risoluzione lo sono andato a leggere effettivamente nel manga è Barba Nera che lo dice ad Ace non è Ace che se lo dice da solo che non è concettualmente la stessa cosa è Barba Bianca è Barba Nera sta a combattere con Barba Nera Ace e credo che è nell'anime che magari hanno messo un'introspezione di Ace in cui parla a se stesso in quel modo a questo punto perché io me la ricordo però lì effettivamente è Barba Nera che lo dice a Ace vabbè è Barba Nera che lo dice a Ace quindi però il concetto rimane il concetto del lui dice questo potere è fatto apposta per tutti gli spocchiosi come te che si adagiano sui propri sui propri cose ma in realtà c'è il secondo per me le prime 25 punta di GT sono una merda perché il livello è troppo superiore potrebbero risolvere le situazioni ma tu c'è l'episodio 25 no io sto parlando dei primi 25 episodi è troppo troppo lungo sono sono belli se messi all'inizio di Dragon Ball se li metti dopo quando il power level è troppo alto le situazioni le possono gestire in due secondi che vai là che vuoi tagliare i baffi con le forbici giganti è una merda perché tu sai che Goku potrebbe andare zoom e glielo taglia basta finito easy è una merda le prime 25 puntate di Dragon Ball GT fanno cagare l'attacco di trama è carino dici vuoi riportare allora lo fai tornare il bambino con i poteri del bambino spiegami perché tutta la parte in cui lui taglia con la kamehameha il vulcano quella è quando vanno alla ricerca del ventaglio ti sta citando il ventaglio con la montagnetta di fuoco e che poi c'è il maestro muten che con l'onda energetica ma non è che ti può mettere a schermo esattamente tutte le cose tu lì devi avere la sensazione di capire cazzo questo è come in qua ho capito comunque ci sono un sacco di citazioni ma sono fatte male secondo me della prima parte l'unica cosa che funziona è giro giro quella è l'unica parte figa quello è carino c'è il doppio gioco e comunque si ha un personaggio a cui tu bene o male dà affezioni poi scopri che invece è cattivo però in realtà è obbligato secondo me tutta la prima parte è carino mi spiegate perché Goku diventa scuro di pelle in GT vabbè ma quello è non lo so ma non lo so perché ma senza senso gli veniva meglio col disegno contestualizzato c'ha la pelle più scura no gli veniva meglio col disegno vabbè questa mi sembra un po' una cosa allora aspetta partiamo Doltacchi ma quant'è la cosa di Doltacchi mamma mia Doltacchi Doltacchi te lo introducono per aprirti Babby allora Freezer tendenzialmente dovrebbe essere l'uomo più forte dell'universo ok sei d'accordo con me su questa cosa perché invece poi appaiono personaggi come il generale Lilde che è forte come Majin Bu che però viene battuto paradossalmente da Goku Super Saiyan e basta spiegamelo no ma come Majin Bu dici oh più o meno un po' più forte di Freezer come Majin Bu beh in realtà te lo in parte te lo può spiegare perché quello lì assorbe un pianeta in un certo punto e quindi e chi se ne frega infonditi con un pianeta molto probabilmente nella visione no vabbè no però dici te beh lui stesso mi dice che un pianeta lo puoi distruggere a 10.000 di potenza questo non c'entra niente questo non c'entra niente perché se tu ci fai caso la Genkidama la Genkidama viene da una parte dell'energia degli abitanti ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo la Genkidama no no ho capito ho capito ho capito si si ho capito ho capito e distruggi hai ragione allora partiamo da da un attimo una cosa vabbè una cosa che è stata molto criticata in generale ecco per esempio tutta quella cosa con i robottoni che cosa ti chiama quella cosa cosa è la prima non ti viene in mente il Red Ribbon ti viene in mente il Red Ribbon anche Pilaf i robottoni sono l'ultimo combattimento e quindi ti sta perché ti mette i robottoni a schermo in quel momento è una citazione ho capito che è una citazione Maggi sono citazioni di merda lo capisci Maggi sono citazioni del cazzo se tu mi dici una merda non vuol dire che realmente sia una merda se tu fai un attacco di trama fatto male dove mi metti anche un miliardo di citazioni una al secondo se fa cagare fa cagare la squadra mega cannon vabbè è carina va bene va bene ciao radio bella radio bella radio va bene andiamo avanti andiamo avanti siamo rienti a papi comunque era un esempio di potenza che la genkidama nello specifico non distrugge la terra perché è buona non è quello non è quello il ragionamento era su il livello di potenza a cui può arrivare una genkidama pur non sfruttando appieno tutta l'energia vitale zack non so d'accordo poi ci arriviamo invece secondo me è stata una scelta stilistica giusta allora vogliamo parlare un po' di baby che è la saga migliore vabbè quindi andiamo in ordine non mi ha ancora colto tutta l'ironia ho capito che è ironico è un'ironia che funziona nella prima serie perché goku non poteva risolvere quelle situazioni in altro modo e quindi te lo giustificava erano giustificate e ci sta qui no qui è una merda allora baby è la saga più bella i gt siamo tutti d'accordo baby è una saga che metti la z va bene è l'unica saga che può reggere ma meglio pure The Cell ci sono anche qua delle cose cosa ci sono benissimo tutto il passato ripeto è la saga migliore per me però è una saga di 10 puntate no una ventina sono 64 si diciamo una ventina una ventina non salva 64 puntate ok è un terzo vabbè io non sono d'accordo che basti solo ok va bene allora è magico apprezza il tuo studio grazie grazie l'unica cosa apprezzabile di lì grazie ci sarà anche un cambiamento tra poco cioè ve lo provo a peggiorare allora quanto è figa la saga di babbi allora babbi è figo ci stanno dei problemi logici di fondo pesantissimi quali a parte che baby io lo chiamerò babbi solo perché ti ha fastidio vai va bene va bene babbi allora adesso lo chiamo baby allora la trasformazione più bella quella da scimmione più bella tutti dicono il super saian 4 è il più bello di tutti vuoi parlare del super saian 4 sì voglio partire dalla cosa più bella perché non c'ha senso ascoltami allora il super saian 4 lui si trasforma nello scimmione dorato eh poi si trasforma in super saian 4 adulto perché eh perché rimani adulto se sei bambino non si sa gli compaiono i pantaloni aspetta aspetta tu dici vabbè gli compaiono i pantaloni dai perché c'ha la coda e quando torna piccolo ritorna con la tuta completa vabbè dai ti stai attaccando le cose no una cazzata perché il super saian se c'ha la maglietta strappata rimane il super saian il super saian 4 gli ricompare la maglietta ma tutto dragon ball è così ma che cazzo fai ma tutto dragon ball è così però c'è dragon ball pure 4 combattendo la zeta no lo scimmione lui da scimmione sì sì ho capito no no non che cazzo c'entra questo ha criticato con ghias perché su zago schiva le pallottole quello è peggio questo è lo stesso è peggio? certo questo perché questa cosa qui è un influente finita la narrazione questo è l'unico vero motivo per cui lui c'ha i pantaloni questo è il character design i pupazzi si fanno così frega cazzi che prima c'era scimmione ma sì allora i pantaloni sì sì c'è i pantaloni poi quando torna normale gli ricompare se l'ha andata a comprare questi contano no no le due cazzo no non mi interessa ma te la dico è una cosa vergognosa vergognosa ma che cazzo fai ma almeno va bene i pantaloni lasciagli i pantaloni va bene il super saian 4 c'ha i pantaloni incorporati ma perché quando torna bambino c'ha la casacca pulitissima normalissima va bene ma per quanto possa essere così non è stato così la fusione è un'altra cosa maledetti con il super saian 3 con il super saian 2 con il super saian 1 non succede sta cosa perché con il super saian 4 c'ha il pantaloni incorporato e quando torna normale sì perché è un bambino è un bambino che diventa una scimmia quando diventa una scimmia si strappano i vestiti non ha più vestiti certo allora che facciamo niente basta bug perché poi quando torna super saian 4 l'hai fatto vedere goku nudo è un sacco di volte non va bene ma scusa allora tu dovresti criticare Hulk non ci vuoi fare un pazzo goku nudo vabbè ma che vuol dire è un buco di trama no perché quello è il momento in cui fare goku super saian 4 ma che dici cosa sposta a livello di narrazione quella cosa sposta a livello di narrazione che se si trova nudo si vergogna e se ne va a vestire e quindi combattimento perde allora devi criticare Hulk non c'ha senso no ma Hulk dici vabbè c'hai i pantaloni no no non puoi ripartire elastici però quando 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 torna normale quando torna normale c'è la cinta quando torna normale non gli ricompare la giacchetta non hai capito non c'entra niente come no il problema è quando torna normale che c'hai vestiti di prima che Hulk non può avere i pantaloni ma vabbè allora sai cos'è oh raga buoni tutti me se rompe la maglietta mi trasformo un altro in super saian 4 tutta linda ma che cazzo voglio avere magliette infinite ma io ti posso pure dare retta c'ha il potere il super saian 4 il super saian 4 io ti posso pure dare retta c'ha il potere delle magliette infinite io ti do anche retta metto così mi trasformo mi riassorbo maglietta nuova e poi me le rendo io ti posso dare anche ragione ma non sposta la trama no sai perché no sai perché perché in dragon ball dice lì è una schicca e sei morto ok è finito l'impero spiegami perché goku super saian 4 dovrebbe essere adulto perché in super saian 3 sei piccolo e in super saian 4 ti hanno rappresentato adulto e cioè tu hai mai visto un super saian 4 piccolo perché c'è stato il buco di drama no aspetta no 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 perché se tu il super saian 4 lo rappresenti così è come dire se si trasforma in scimmione di orato deve trasformarsi in scimpanzè ciao just ciao just eh cioè quanto è grande lo scimmione è un influente cioè se goku da piccolo si trasforma in scimmione goku da grandi si trasforma in scimmione lo scimmione è sempre quello perché sharon era abbastanza forte a tenere bambino goku in forma su un po' s ma che cazzo dite no no sono tutte cazzate secondo me la verità è che era figo no la trasformazione è quella la trasformazione è quella perché no no non ha senso perché tu mi stai dicendo mi hai trasformato goku bambino quindi mi stai dicendo che goku se avesse sbloccato il super saian 4 alla prima saga sarebbe stato adulto non ha senso sarebbe stato uguale quello no Alex non sono per niente d'accordo in super saian 4 perché a livello di narrazione perché è una trasformazione che va verso il bestiale e di conseguenza come anche per lo scimmione non passa nulla la mitragliatrice non è la stessa cosa la stazza del saian non influisce sullo scimmione allora è palesemente fatto perché il super saian 4 è figo da dunque e va bene come anche lo scimmione sti cazzi però quello che ti stanno dicendo è che c'è un precedente lo scimmione quando è piccolo lo scimmione quanto è grosso sono lo stesso scimmione quindi quando si trasformano non sono d'accordo hanno la stessa stazza super saian 4 è la stessa cosa si si ti trasformano hanno la stessa stazza a 100 anni Goku torna in forma si si ma che cazzo dite dai ma è che poi è esattamente come succede ad esempio a Muten 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 è un vecchio decrepito poi ogni tanto rimane vecchio in faccia ma rimane vecchio in faccia rimane vecchio ma nel corpo no il corpo se lo pompa che vuol dire non è perché questi tazzi poi rimane rugoso uguale per le sette pompe non funziona così è un'influente perché quell'altra erano trasformazioni diverse non vanno verso il bestiale crea magliette infinite va bene ma tu dimmi la maglietta a livello di narrazione ma vabbè non ti è piaciuto a livello di narrazione pure te mi fai delle cose vai stai per dirlo occhio io ti invito a non dirlo ve lo faccio per te non ti conviene pensa cosa vuoi dire allora io non lo dico non perché no 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 non ha senso non è la stessa cosa perché su Zopo che schiva le pallottole quella cazzo di puntata è fondamentale perché se no non passa una mitagliatrice non l'ho detto eh ma l'hai pensato stronzetto non lo sai non lo sai non lo sai allora se non c'è la mitagliatrice c'era esatto ma il cazzo la mitagliatrice è fondamentale non cambia il cazzo perché suzio perché le luce col cazzo che fa avanti io lo posso dire io lo posso dire ma io non lo volevo dire per riaprire questo capitolo ma c'è c'è la mitagliatrice ma c'è non è possibile che ogni volta riescono le pallottele su Zopo basta non sono la stessa cosa morto con chi cazzo non esiste non esiste non esiste non esiste ha cominciato lui no io non ho detto niente ma sto parlando di Dragon Ball tu hai pensato tu hai cercato di carpire quello che penso io non lo so sto parlando di Dragon Ball ok se quello c'ha o non c'ha la maglietta a te non cambia un cazzo se lì c'ha la cazzo di cosa a te cambia come zitto non è vero che cazzo dici non è vero non passa non passa lo stesso dizio che scrive che scrive che lì c'è la mitagliatrice è quello che scrive che su Zago scrive proiettili se sul Zago non scrivassi proiettili non ci sarebbe manco no perché fate una merda non è una legge non è una legge non è non è si parla di autori gli autori scrivono cagate va bene ok sbagliano ma secondo te secondo te fanno fai il coso sensazione bello sensazionalistico è una merda è stato dimostrato scientificamente che è una merda ho pure rivisto la puntata e ci sono tante cose che le fanno per la spettacolarità ad esempio quando quando si tu ammazza mago e le porte del della chiesa che cos'è si chiudono da sole ma no ma perché è teatrale è teatrale e sono momenti teatrali è come è come quando nei film di Evangelion mettono i due e leva a combattere nel teatro non è non è logica no 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 quella è meta quella è meta quella è volutamente no non ci provare quella è volutamente meta possiamo entrare un attimo in merito cazzo dici quella è volutamente meta c'è un problema allora ti metto un problema che a te piacerà tantissimo ma siamo parlati sempre di Bab bellissima sacca di Bab baby allora tutta la parte relativa l'episodio 40 posso parlare l'episodio in cui si omaggiano Junior e Gohan il tutto il loro trascorso ma quanto è bello quell'episodio che è un momento allora è un omaggio allora il pezzo in cui Piccolo muore è carino è carino è un omaggio useless ma carino è un omaggio non è useless è un omaggio non l'hai fatti apparire per tutte le puntate UB UB che secondo me doveva meritare una parte centrale perché cazzo c'hai UB e dovrebbe essere il tuo successore c'ha una parte di puntata no perché lì l'omaggio invece a Machin Boo che cosa succede? non mi interessa non capisci non capisci cosa che viene fatto quello che sto dicendo è che gli hanno dato poco spazio e alla fine è sempre Goku ma quello è Dragon Ball eh ho capito che cazzo vuoi Dragon Ball è sempre Goku Cell non era Goku in teoria no UB dovrebbe essere il successore come lo era Gon per Goku ma in quell'occasione quando lui sta falliscono tutti falliscono tutti quando lui sta però gli hanno dato proprio poco spazio ma non è vero cioè UB dovrebbe essere fortissimo è una merdina compare pure alla fine ma soprattutto che cosa succede? quell'episodio quello del torneo omaggio ai tornei ti sta facendo rivivere la marcore guarda che Dragon Ball è stato i tornei sta per sconfiggere Mr. Satan arriva la voce di Machin Boo ricordati che lui è più forte è il più forte per gli uomini deve essere il più forte bellissimo quello è un pezzo e quindi non è che UB è nerfato e lì ti fanno vedere che Machin Boo è mentalmente più forte e lo convince a Baby c'è un errore di concerto potevano farlo salire su quella navicella UB dai allora quando Vegeta incontra Baby per la prima volta prima di incontrarlo dice di sentire un'aura ok simile a quello degli Zufuru ok ciao Magico ci siamo ci siamo fin qua io sento l'aura di un tizio che è uno Zufuru ok bellissimo se gli Zufuru fammi finire di parlare dimmi se ti è piaciuta la cosa fammi finire di parlare posso? è piaciuta vivevano insieme ok giusto quindi Vegeta era piccolo però diciamo che gli Zufuru può essere che li ha visti anche se si pensa che in realtà Vegeta non sa neanche il cazzo siano o comunque li ha visti nei libri storie no Vegeta non lo sa Vegeta però dice io sento l'aura di uno Zufuru ora spiegami lui è l'ultimo Zufuru rimasto non ce ne sono altri quindi non l'ha mai sentito non è nemmeno un Zufuru però gli Zufuru li hanno diciamo sterminati quindi magari in realtà in qualche modo potrebbe avere a prescindere da questo a prescindere da questo lui impara a sentire l'aura da dopo il viaggio sulla terra quindi lui un'aura di uno Zufuru non sa che cazzo è no perché lui ha le cellule dei tizi dentro di sé Babby è la creazione cosa è stato creato con le cellule lui sente l'aura degli Zufuru ma lui è lui è un organismo nato da cellule sta parlando di Vegeta ah di Vegeta Vegeta sente l'aura degli Zufuru non ha senso logico non ha senso perché lui non sentiva le aure prima di andare sulla terra cioè no vabbè non ha senso non ha senso ma va bene non ha senso Vegeta Vegeta che si taglia i capelli coi baffi carina la gag è una gag carina la gag ma i capelli tagliati i Saiyan non gli ricrescono i capelli è una gag aspetta ma vaffaculo la saga dei Draghi sul plus anche Dragon Ball Z è il finale piango sempre perché è un'emozione unica per non parlare della passione che ci sta andata grazie quanto appunto si è preparato ma non è allora io GT l'ho visto poi le musici di GT il finale di GT per me è uno dei più belli per me se lo devi criticare Clivio perdere che significa tutta la tua critica però mi fai parlare io quando abbiamo fatto la classifica dei finali io l'ho messo tra i più belli per me il finale di GT è bellissimo il resto è una merda ma insomma la saga di tranne la saga di Baby che qualcosina si salva ma c'ha degli errori concettuali dentro che non hanno senso tutta la cosa quali sono gli errori concettuali? loro la prima volta che incontrano Baby loro chi? Goku Trunks sta dentro il generale lì è scappa va dentro a un omino del cazzo e dopo Pia Trunks quando loro lo vedono quando loro tornano e sta nella capsula è ok quella cosa dovrebbe durare tre secondi boom morto non mi ricordo non ce n'è per nessuno qualcuno mi aiuti che non mi ricordo che cazzo succede e invece c'è il dottor Mew che prende scappa e Baby si è introdotto dentro a Mew cazzata quello doveva schiattare doveva schiattare perché? perché i livelli di combattimento sono troppo alti per quella storia che vuoi portare è tutto un bug è tutto un bug però queste cose succedono spesso nelle storie che ci sono queste situazioni al limite cioè come il tizio delle ossa di Naruto che muore quando sta tanto così da insomma dai succedono stai colpo ma passiamo alla saga con più bug e la saga più brutta quella può essere ma in realtà no a me non è così anzi no è vero la prima ah no 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 saga di Super C-17 no quella intendevo dire ah perché quella tua per te è brutta ah ma mamma mia una merda una merda una merda allora episodio episodio no non hai capito sono io che lo sto attaccando mi devi far parlare a me qual è l'episodio bellissimo di quella saga nessuno l'episodio degli inferi eh no bellissimo lo sai che non ha senso di esistere quell'episodio è un episodio a Mark Horde messo apposta è un fanservice eh niente ogni cosa ti dico c'è un errore allora lo sai come funzionano gli inferi di Dragon Ball no eh non lo sai lo so che non lo sai perché non sai in cazzo te lo spiego io le anime dei malvaggi vengono purificate trasformate in nuvolette ok quindi il nemico non esiste più no non esiste più ciao quell'episodio di Zeta Filler dove ci stanno Vegeta Selle non ha senso di esistere perché se Freezer fosse vivo agli inferi non ci sarebbero gli inferi perché Freezer li fa saltare in aria a questo punto c'è un problema eh e Dragon Ball Super Freezer da dove esce fuori no Freezer gli hanno dato la punizione di metterlo lì nel bozzolo è una cosa particolare e comunque anche lì dovrebbe essere purificato infatti è una merda e infatti è una merda teoricamente tutti i nemici che tu hai visto da Radici poi dal grande mago piccolo bla 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 sono tutti stati Freezer era vivo anche Zell nell'episodio filler quelli sono episodi filler sono filler ok vabbè ok anche perché se Freezer e Zell fossero vivi le rinchiodi nella prigione penso che possano uscire dalla prigione si vede quella scena cringissi e loro che vengono rinchiusi in una prigione e c'è Freezer che fa e c'è Zell che fa ah che palle va bene va bene va bene e quella è un filler lo accetto va bene ci sta in Dragon Ball GT è proprio parte integrante della trama e non ha senso il dottor Gelo e il dottor Mew si incontrano si incontrano negli inferi ok e costruiscono insieme un C17 primo dove lei trova è un androide quindi ci dovrebbe essere anche il vero C17 che è vivo quindi non c'è no più o più che altro anche se non c'è il vero C17 se vuoi costruire un androide serve una base umana serve una base umana il problema non c'è e non ci sono i materiali dove li trovi i materiali vabbè dice vabbè li ha creati ma loro non esisterebbero perché loro sono forme sono nupolette non esistono non si possono ma questa è una merda ma scusa prima mi hai detto che io non posso dire che il filale è bello adesso te critici una cosa non lo puoi criticare c'è ragione però c'è ragione ma male il suo filale è bello il super C17 non ha senso esistere tornano in vita tutti quanti c'è anche cooler da dove l'hai preso vabbè tanto non è canonico non è canonico ci hai voluto mettere là io dico sempre la stessa cosa lì ti sta semplicemente cercando di dare delle cose a marcord tu devi semplicemente accettare il fatto che siano cose a marcord e vederle per quello che è tralasciando gli eventuali rinascono tutti ma non potrebbero rinascere perché sono stati purificati quindi non esiste la saga di super C17 è una merda non ha senso esistere la saga di super C17 è molto brutta però ripeto se tu la guardi ma che cazzo sta a fare questo vizio ah ok prendi quei grossi prendi quelli cattivi poi non siamo arrivati a quelli dopo sì io sono d'accordo però ti ripeto come risponde sempre come mi ha risposto a me in continuazione digliano in faccia che non lo vuole sei un bug sei una merda come mi ha risposto a me JTaz come mi ha risposto a me per quanto riguardava Spider-Man Victor Laszlo c'è so i feels quindi la risposta e tu li hai attaccati per questo effettivamente però però quello che puoi usare le armi però dico che il perché è stata fatta quella cosa a precedere dai bug per dare quella sensazione quel feels bello relativo al fatto che ti sto facendo ripercorrere gli androidi il dottor Gero è il lupo ti sto facendo ripercorrere gli androidi poi il dottor Mew tendenzialmente da quello che ci fanno capire è un full robot non è un androide poi vabbè a libera interpretazione magari c'ha qualcosa umano però tendenzialmente dovrebbe essere un full android e un full robot e quindi non dovrebbe andare negli inf beh beh non è detto se c'ha un animo vabbè allora questa saga ci abbiamo poco da tipa c'è nel finale ma che ti devo dire ma che ti devo dire sono stati che non merda ma ti robot quelli c'hanno l'anima vuoi dire altro asterisco asterisco no io ti ho detto è stata fatta è stata fatta soltanto sensazione e dura tre puntate è veramente una merda veramente una merda non ci hanno creduto manco è una preparazione a quella quella dopo bellissima saga struttura allora qua quella è proprio una saga prima di arrivare no senza il finale il finale ne parliamo dopo quella è tutta una saga che cita se stesso in una maniera allucinante lì è proprio un omaggio dall'inizio alla fine ti fa ripercorrere tutto quanto Dragon Ball attraverso i draghi bellissimo drago il primo drago no allora no mi devi far parlare parla di draghi allora no non parlo parlo di quello che voglio io do un'introduzione do un'introduzione siamo arrivati alla saga di draghi l'attacco sì l'attacco di trama l'attacco di trama ci sta ah è figo bellissimo il drago il drago corsicaro ma non è figo niente non si può devi dire che è figo allora è figo il drago corsicaro è una merda è una merda cioè drago talpa vabbè ma ci arriviamo lui è fighissimo lui è fighissimo allora è fighissimo lui ascoltate l'attacco di trama è molto bello l'idea è molto bella il problema è che è trattata di merda ci sono l'attacco di trama di dei draghi dei draghi ah ok l'attacco di trama è molto bello fa cagare tutta la costruzione partiamo dalle basi vai ci sono sette draghi si quattro sono sconfiggibili probabilmente da da krillin e quindi da krillin inizio cioè sono un po' delle merde gli altri tre infatti il drago talpa non l'ha capito secondo me il drago talpa è terribile il drago talpa è tutta una cosa concettuale ma perché lo deve sconfiggere ma non fisicamente non ti sto dicendo fisicamente ma non dal punto di vista estetico è come combattono con il drago talpa no 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 vai vai dimmi innanzitutto vai vai partiamo dalle basi partiamo dalle basi perché sono quelle le cose più importanti perché viene fatta la cosa con i draghi come si chiama primo combattimento il drago della seconda stella qual è il drago della seconda stella vediamo se lo sai io li so tutti certo ce li hai scritti però sono andati a guardare quello che indebolisce il tizio da dove viene qual è l'origine hanno senso perché hanno tutti un'origine cazzo quando resuscita Bora bravo bravissimo comunque bravo allora la realtà adesso ah ti sei segnato ah hai visto che bravo sei segnato bravo bello quello e quelli ti fanno ti fanno ripercorrere no quello è dopo le mutandine è molto dopo la mutandina è la tizia è molto dopo le mutandine dovrebbe essere questa è quella donna è sciva vabbè dai continua poi e c'è il secondo combattimento che avviene col drago della quinta stella che è il drago dell'elettricità gogo che torna in vita dopo radish e ti ripercorre pure la parte di radish ma quanto è figo quello là cosa cazzo stella cazzo stella eh no è vero dopo radish allora tu lo capisci che se tu fai un prodotto dove ripercorri il motivo per cui sei stato cioè le sfere si sono create no? ti sta ripercorrendo tra google sì ma non è una cosa difficile da fare cioè è una cosa banalissima cioè tu dici se non mi avesse fatto neanche questo sarebbe stato veramente ignobile a parte che non era scontato e secondo poi non per forza c'è una cosa di questo modo ha semplicemente lo scopo di non farti guardare ai draghi ma tu attraverso i draghi stai ripercorrendo la storia di dragon ball come si dice talpa in inglese? come si dice talpa in inglese? come cazzo si chiama? sto drago de merda inutile poi arriva il sesto combattimento perché questa è una donna? che in realtà non è una donna per le mutandine per quello è stata messa una donna? allora lo capi te l'ha omaggiato molla ma c'è tutto un combattimento particolare in dragon ball gt con questo qua in realtà è una cosa di ragionamento che fanno che fanno lui e go bellissimo mamma mia vai continua poi c'è l'ultimo il drago qual è la talpa? quante stelle ha? non mi ricordo qual è quella talpa ma ti sei fatto tutti gli appuntini? mi sono scritto quelli che fanno l'origine mi sono scritto non mi ricordo il drago d'arpa qual è? era eeeh dart d'alpa dart d'alpa ma si quella parte di luddista vabbè 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 non me ne frega un cazzo vi volevo semplicemente far vedere quanto è brutto il drago d'arpa se non lo ricordate vabbè allora come ma se lo ricordano così dai no e no perché rivista schermo fa ancora più impressione e ho usato impressione proprio perché fa impressione sette stelle era il sette ok sette stelle quello che dopo la distruzione di machin vegeta va bene vai 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 continua continua no io voglio parlare degli ultimi tre quindi vai quelli c'è da fare quello ma me lo trovo tu no fino a qua che cosa hai da dire secondo me allora sono delle puntate filler sono magi sono magi a drago allora ti rendi conto ti rendi conto non hanno poco non hanno poco ma è sempre la solita storia ma ti fa ripercorrere la mutandina tu quando guardi questa e pensi alle mutandine dici cazzo è vero il primo desiderio ma se tu manco te lo ricordavi guarda pezzo di merda io vado che vuol dire però questo l'intento tuo è questo tu guardi quello e dici cazzo è vero il primo desiderio dopo compila ferma Iale che fa le mutandine per non far far bello tu ricordi e poi arriviamo agli ultimi tre no no parliamo una teoria i primi quattro sono vergognosi sono scontri che si potrebbero risolvere veramente in due minuti mamma mia si potrebbero risolvere in due minuti ma li continuano a portare avanti perché io ho assorbito l'energia tu dici l'unica cosa che tu pensi a parte il wow le mutandine basta basta e poi sei emozionato roba sei una persona arida come Meliator e poi mi spieghi per quale motivo incontrano prima i draghi più scarsi di quelli forti vabbè come in tutti quanti i battle shonen esatto cioè funziona così compaiono contemporaneamente sì ma in tutti i battle shonen funziona che prima combatti contro più scarsi e poi contro più forti ah perché in dragon ball c'è sempre stato uno più forte ok perché che è il capo degli altri che manda gli altri perché koku non combatte subito contro come si chiama gas gas che gas gas è più forte nel senso quello l'avete su però il po come scherzo si chiama se tu ci pensi come mai dottor gelo ha completato c17 c18 proprio in quel momento se l'avesse completato tre anni prima c17 c18 vabbè no lì ti dice si integrava l'universo no lì ti dice la poteva essere tre anni come due come dieci come uno appunto cioè come mai no non è quel momento viene trunks e ti dice tra tre anni vengono quindi è giustificata una cosa scusa è machinbu machinbu come l'ho giustiti c'è trunks che tu te lo dice lui che ha vissuto nel futuro e dice tra tre anni ci sarà si ma se tu se trunks arriva da goku bambino gli fa tra tre anni e fa fai cose sti cazzi però però lì è per me la saga degli android pure là c'è ma machinbu con la cosa di perché lui perché babby ti arriva con quel momento e non arriva prima ma infatti ma infatti è tutto così no però qua sono contemporaneamente non è vero però lo specifico ha un senso perché machinbu ha acquisito ora negativa no poi viene liberato nel momento in cui muore riccaio va bene va bene i primi tre draghi sono indecenti i primi quattro e il drago talfa ragazzi andatevelo a vedere io adesso non lo trovo su youtube andatevelo a rivedere perché è vergognoso sono scontri che possono finire in tre secondi ma che continuano ad andare c'è questo qua che scava e fa scava 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 come è che solo io in finale combattino il demone più forte si funziona così vabbè vabbè gli ultimi tre draghi spiegami perché il drago di fuoco è buono che è stato esatto cazzo lì io lo dovresti sapere no vai vai no voglio no perché se non lo sai io lo so perché te lo dico io non ha senso ok che sfera è che sfera è il drago il drago buono che sfera è te lo dico io è la sfera di nonno Gohan e quindi tu ti dai che cosa a parte è la sfera di nonno Gohan quindi c'è tutta la cosa che poi richiama il finale ma soprattutto sai che che tipo di desiderio è quello è l'unico desiderio positivo che è il desiderio non è vero è il desiderio non è vero ci sono risuscitare bora è un negativo non mi stai capendo che cazzo dice è l'unico desiderio in cui non viene positivo nel senso che non viene riparato perché in Dragon Ball fanno sempre cose tipo ammazzali tutti non viene riparato a un torto è il desiderio espresso dall'unico cattivo che vuole la giovinezza che è grande mago piccolo non è una riparazione che aiuta un cattivo quindi sì ma non è una riparazione il desiderio non è la riparazione ma lo capisci che è per quello che è buono quel drago perché è un drago nato da un desiderio genuino puro che non è andato contro qualcosa che è accaduto di malvallo è una strozzata invece secondo me tutti i draghi sono cattivi perché vengono vengono da un desiderio di un buono e l'unico drago che è buono è perché viene dal desiderio di un cattivo potrebbe anche avere senso ma non ce l'ha perché ti dice proprio che i draghi vengono fuori dall'energia negativa delle sfere ma non vuol dire che il drago è negativo se esce fuori dall'energia negativa esce fuori dall'energia negativa e poi i primi quattro draghi sono negativi ma sono dei quattro staccati a casa mi spieghi la differenza la giustificazione di differenza di livello di potere degli ultimi tre draghi rispetto agli altri quattro perché gli altri non sono un po' più forti non sono tanto più forti sono infinitamente più forti ma perché hanno un design un po' più fino gli altri sono degli staccati a casa e non ha senso questa cosa non ha senso è come nella vita reale c'è una via di mezzo ci sarà uno a metà no o tutte pippe o fortissimo vabbè ok questo non ha senso di essere buono ma no perché no te lo ripeto perché è una cosa che poi si ricollega al finale perché questo è il desiderio della quarta è la sfera di nonno Gohan tu l'hai vista la famosissima ormai puntata in cui Goku da bambino fa fatica a sollevare un palazzo che cazzo di puntata dove sta è contro i tuoi amichetti ah di GT stai a parlare beh che c'è con questo che è buono adesso ascoltami c'è una punta questo è buono perché è la sfera di nonno Gohan ti dico non sono d'accordo no è fondamentale che cazzo dici tu stai cercando lui la mangia la sfera di nonno Gohan e vi compare il quattro in fronte tu stai cercando è voluta quella cosa per Dio per quello è buono il drago perché quello è nonno Gohan è il volere di nonno Gohan è tutto voluto è tutto voluto è tutto voluto è tutto voluto di merda no è vero c'ha senso no no perché la sfera di nonno Gohan è nonno Gohan che lo sta aiutando attraverso il drago è voluto fatto male è voluto fatto male è voluto fatto male tu stai cercando di darmi un fiz positivo ma dopo lo mangia dopo lo mangia però nonno Gohan è già dentro dentro il drago quello è l'intento cioè quella è la sfera di nonno Gohan nonno Gohan non è la sfera semplicemente nonno Gohan aveva la sfera ma nonno Gohan non sta nella sfera ma che cosa ti dice il finale non c'è nonno Gohan qua dentro arriviamo al finale allora no si ricollega a questa cosa c'ho molte cose a Dio ancora te l'accogli te l'accogli questa cosa si ricollega al finale del perché poi lui quando mangia tutte le sfere capisci del perché in realtà lui è diventato un tutt'uno con le sfere e lui già era praticamente un tutt'uno con le sfere e quindi quella sfera semplicemente ha il fatto che ti fanno capire che è come se avesse un volere proprio perché è la sfera che ha accompagnato Goku in tutto quanto il percorso non ha senso tu non ce lo vedi non ce lo vedi tu ma ce l'ha non è vero è una forzatura narrativa per farti dire che bella la sfera dalle quattro sfere ma la sfera delle quattro sfere non c'è nessun collegamento Gohan non è mai stato detto non è mai stato detto nel manga nell'anime da nessuna parte che le sfere prendono l'energia di chi la possiede mai detto mai quindi è una forzatura narrativa ma manco mai detto il contrario quindi è una libera interpretazione dell'autore eh ho capito è così nel senso libera interpretazione dell'autore perché no illuminami se non mi dici il contrario di conseguenza non per forza hai ragione tu siamo in un limbo nel quale ognuno può fare il caso siamo d'accordo con il retcon sì siamo d'accordo con il retcon è bella è bella questa scena è bella questa scena perché è proprio la quattro ma ci fai caso che è proprio la sfera quattro quella buona perché è proprio la quattro ma certo che è fatto apposta ma è fatto apposta male non ha senso è come spiderman sì feels bello ma non ha senso volevano anche qua volevano fare il plot twist però avevano paura che dirlo prima avrebbe generato ma non lo spiegano neanche dopo è semplicemente la sfera delle quattro sfere sì ma è fatto male è fatto male è carino carina l'idea la cosa ma è realizzata di merda è realizzata di merda quindi questo è buono e poi ovviamente mi vorrei concentrare sul sul numero uno sto per ucciderti ah di godi so so come ucciderti mi dispiace ma adesso ti ucciderò lui glielo dice oh no vabbè se mi ucciderai è finita la saga ma mi deve uccidere Goku eh mi dispiace ti sto per uccidere io ora vado vabbè quello è ma quello è Dragon Ball scusa così almeno sono entrato dentro vabbè quello ma io non si capo no no si 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 fanno cagare Super Saiyan 3 quando c'è Goku contro Majin Bu allora lì che cazzo vuoi è la stessa cosa fammi spiegare è assolutamente sbagliato secondo me concettualmente ma c'è un senso cioè Goku non voleva far fuori Majin Bu perché voleva lasciare il testimone ai ragazzi e poi fa la cazzata e siamo d'accordo però lì è Goku è coglione qua è proprio lui è coglione no perché qui è l'unica possibilità di salvezza praticamente però vabbè va bene spiegami c'è questa scena di Goku casca sto palazzo Goku si mette lì a cercare di sollevare non ce la fa sollevare il palazzo e si trasforma in Super Saiyan 4 e ce la fa cazzata aspetta aspetta non è l'unico problema perché la gente si è soffermata molto su questa cosa del palazzo che è stata ripresa molto nei forum io me la so rivista quella scena ma scusa GT mi che canon quindi si però vabbè è vergognoso comunque ma la cosa bella è che il palazzo ha gli specchi e Goku cerca di tirarlo su dagli specchi e lo specchio sono specchi molto lui solleva il vetro di Murano lui rimette a posto il palazzo dallo specchio roba fatta bene no no le cazzatine e non ce la fa Goku bambino spiegamelo Suzaku schiva le pallottole Goku non riesce a sollevare un palazzo non a sollevarlo a spingerlo ma è Dragon Ball è tutto così cioè si nel senso va bene non mi soffermerei troppo su queste cose pesta di cazzo Suzaku no si che ti devo dire è fatta male hai la risposta ma tanto ma ce l'avevo già con One Piece no no tutte le volte in cui lui ti dirà Suzaku e scrive tu fai vabbè si no ma lui non risponde così è lui che non risponde così occhio ma è perché sta cercando di farti capire come perché poi tu adesso quando faremo il judgment day su Death Note ripartirai con lo stesso treno non capendo Death Note c'ha seri problemi non capendo qual è qual è la motivazione ma ha detto no non è vero ma ha detto ma il problema a parte è quello che non deve vivere perché non è umano ma ha detto non c'ha problemi relativi al fatto che compaiono cose a schermo nel momento giusto nel momento esatto quando non ti vengono spiegate una su tutte e poi scrive le cose comunque comunque poi ne parleremo settimana prossima a una certa esce Ciccio Pannuzzo esce Ciccio Pannuzzo lui chi è palesemente lui è Freezer ok esce Ciccio Pannuzzo rade al suolo io sono Gigno rade rade al suolo una città rade al suolo una città Ciccio Pannuzzo esce fuori rade al suolo una città e tutti oddio ma è fortissimo però sono solo una città è coglione quasi come Nappa oh spiega che rade al suolo una città è fortissimo che cazzo devo dire vabbè non mi sono rivisto tutte le puntate di rade al suolo la colpa non è DGT quando Nappa lo faceva con due dita eh esatto quella è la merda la merda è prima non è questo vabbè perché per dimostrarti la sua forza devi fare devi distruggere l'universo e poi che facciamo come mettiamo l'umiltà è una cosa sacra assolutamente non ha senso di esistere e dici va bene allora si mettono là a scontrarsi a una certa arriva Bulma e dice eh raga sapete mio marito con lo strozzo lì è un po' una vippa non riesce a trasformarsi in Super Saiyan 3 eh fa le cose le onde blitz blitz beh c'ha senso però e lo trasformiamo in Super Saiyan 4 vabbè le onde che richiamano schippando il 3 vabbè le onde che richiamano però c'ha senso però però Vegeta non ha il potere dei pantaloni ma ha il potere dei jeans ah Vegeta Vegeta ha il potere dei jeans ok si però quella cosa ha senso bypassi la coda perché fai con le onde della luna non ha senso hai la tecnologia per poterlo fare la mettiamo anche che abbia senso non riescono a batterlo in due ok no questo però è no ho anche il Super Saiyan 4 mi ha preso il 4 però sono tutti abbastanza azzuzzi perché non li puliscono un po' ma vabbè vedi che c'ha sempre il jeans c'è pure qua questi spuntoni che cazzo mi rappresentano però è figo non risponderò e vabbè Bulba è un genio va bene lo accettiamo Vegeta ha schippato il Super Saiyan 3 perché è più figo ma non c'ha bisogno il Super Saiyan 3 se può tranquillamente utilizzare le cose della luna va benissimo cercano di batterlo non ce la fanno arriva Gogeta dai fa la scena ascolta arriva Gogeta si fondono ovviamente lui questo è Gogeta questo è Gogeta ah non c'è Gogeta no si è quello dietro a Goku non c'è qualcuno dietro a Goku no può essere che è caduto vabbè dai comunque non ce la facciamo ci fondiamo Gogeta Super Saiyan 4 si robercula no Maggi porca troia mi devi far parlare intanto perché Gogeta è rosso? ma che bordi dai sono cazzate queste perché Gogeta Super Saiyan 4 è rosso? ah Vittor tu è un amico tu perché Gogeta Super Saiyan 4 è rosso? eh ci manca Gogeta però oh e t'avevo messo prima ma no siamo arrivati a Gogeta si prende pure Goku fai la Fusion perché vabbè è rosso eh va bene bellica roba ma che cosa ti cambia il fatto che sia rosso o meno sono cose messe a caso vabbè perché è una figata infatti è figo secondo me ha messo a schermo no no non ha senso è figo è figo è tipo meno per meno è più no non ha senso due vabbè non ha senso va bene per l'inclusività va bene estetica estetica va bene esce fuori lui va bene lo accettiamo è rosso perché è rosso la parapirculata le puntate è una o due in cui fai il cazzo dove c'è Gogeta Super Saiyan 4 va il cazzone sono vergognose è Dragon Ball che è così che i personaggi fanno i cazzoni e non uccidono la gente è tutto così no allora la prima volta in cui vediamo Vegget o quando vediamo Gogeta contro ciao Rinne ciao Rinne o quando vediamo Gogeta contro Gianemba e vabbè è un filler che è tutto serio e gli rompe il culo oppure quando vediamo Vegget Vegget ha una certa percula quando è caramella all'inizio gioca un po' con lui ma perché lui lo scopo e vuole non è quello di battere Machin Bu è quello di entrare nel suo corpo per liberare gli altri quindi li è contestualizzato qua Gogeta nella puntata dove appare fa il coglione completamente a caso ci stanno delle scene in cui lui fa le onde energetiche si moltivi a fare un delle scene in realtà ci stanno i cosi che sparano i coriandoli oh questo distrugge la terra e che cosa succede che dopo tre ore che fa il coglione si scioglie il tempo e vabbè ma spiegami per questa cosa è in linea con Dragon Ball cioè non è qualcosa messo a caso no non è in linea ogni volta è contestualizzata è contestualizzata di merda ma è contestualizzata qua è assolutamente decontestualizzata Vegeta che fa la stronzata con Cell lo fa perché vuole provare che lui è più forte è un coglione sì ma lo fa per un motivo lui non lo fa per un motivo lui lo fa perché lo vuole perculare e basta poi non è che è uno che ti sta sul cazzo che hai avuto a che fare per vent'anni quindi lo perculi perché dopo sei un coglione te perché si scioglie la cosa e come vogliono concludere tutta la saga come hanno concluso la saga di Dragon Ball Z perché perché non hanno inventiva e per voi non è che non hanno inventiva lo fanno con la Genkidama è voluta lo fanno con la Genkidama e come è finito Machin Bu ed è una merda ma sì Gotenks è un coglione infatti Gotenks cazzeggia è finito no scherzi è finito è finito per me è finito Gotenks è la trasformazione più brutta insensata vergognosa non ha fatto niente a un certo punto c'è Omega Sharon che gli lancia le ondine lui si mette là e fa bel massaggio che mi hai fatto è Gojo è Gojo lui che cazzo fai si mettono a fare le onde energetiche con i coriandoli è voluto dove hai preso i coriandoli dove hai preso i coriandoli oggettivamente è più forte quindi si permette il lusso di fare il cazzone in quel momento perché sa che da davanti c'ha una minchietta moscia soltanto Vegeta non è coglione ma è una fusione la fusione prende tutto Goku è Goku ma no ma entrano in conflitto e anzi e non è neanche Goku è più stupido di Goku e no l'ho detto entrano in conflitto e gli si brucia il minchietto no no forse per quello che è roscio non lo fa bene c'è stato qualcosa è una fusione sbagliata ma è una cosa anche a livello scenico anche a livello scenico è fatto malissimo Omega Sharon nel momento in cui impare Gogeta diventa una pippa ma non una pippa in conflitto lui diventa proprio una pippa quando spara i raggetti i raggetti sono piccoli così ma non è vero perché lì ti fanno vedere uno rimesso mentalmente c'è uno che si è accorto che davanti c'è uno che lo può o per quanto può essere rimesso mentalmente l'essere più forte mai esistito no no in quel momento non lo sei più in quel momento vai fuori certo arriva Pan gli fa pam pam e muore che cazzo dici è la combo di Pan ma in quel momento lui è proprio rimesso mentalmente perché si rende conto che davanti c'è una persona che oggettivamente allora meta questa è una cosa che hai deciso te che non c'è scritto da nessuna parte Veget prende più da Vegeta per il nome ma che cazzo a schermo a schermo ti mettono i cazzoni tutte quante le fusioni le fusioni sono cazzoni Toriyama ti fa capire ma in generale insomma in Dragon ti fanno capire che quando si fondono ma diventano diventano superbi Goten's c'ha senso perché sono due bambini diventano superbi no tutti diventano superbi quando si fondono sempre no perché la fusione diventa superba no perché contro Majin Buu Vege è pure trolla ma a merito contro Majin Buu o contro dopo in super in realtà non fanno così cioè c'è un motivo per cui loro fanno i cazzoni loro fanno i cazzoni sia per curarlo ma perché lo scopo loro è quello di entrare dentro il corpo di Majin Buu e liberare gli altri perché sapevano che se no li avrebbero ammazzati insieme a Majin Buu e quindi lì oh è una scelta un po' li potresti anche sacrificare ok mi spieghi come tornano in vita tutti eh questa me l'ero scordata vabbè anzi manco la dico manco la dico il finale no no quale tornano in vita l'hai detto quale tornano in vita quando muore questo bellissimo no intendevo prima però vabbè vabbè prima con Babby teoricamente non potrebbero vanno al Dragon in a Mech non vanno al Dragon è più lunga che li fa ricrire la dico quando li fanno risuscitare tutti alla fine dalla fine di Tragic non potevano risuscitare perché dice che la terra non sta più in quel posto e quindi se ne suscitano non stanno tutti a parte quello forse dovremmo ma anche ah sì poi quando praticamente loro ricreano il pianeta Saiyan il pianeta Vegeta e fanno rinascere tutti lì ok ci sei fino a qua il pianeta Vegeta c'ha una gravità dieci volte superiore al normale e nessuno se ne accorge gli umani siamo tornati in vita oh bella raga oh dieci la gravità Goku all'inizio faceva difficoltà sul pianeta di Recaio a fare così dipende dipende perché su Vegeta Vegeta c'ha la gravità dieci volte superiore e dipende perché dipende perché per la composizione del pianeta no non funziona così cioè nel senso dalla massa del pianeta dovrebbe essere moolto più grande o più compatto oppure magari vicino al pianeta Vegeta c'è che ne so ad esempio c'è un buco nero e quindi si risente della gravità del buco nero ad esempio vabbè secondo Toriyama a parte il fatto che qua non è Toriyama qua non è Toriyama perché anche Toriyama si è dissociato da questa da quest'opera ha disegnato solo il Super Saiyan 4 e fa il Super poi vabbè vabbè comunque fatto sta che non torna un cazzo il finale il finale è bello mazza il finale è bello il finale è la è la conclusione maestosa di Dragon Ball avete fatto affidamento per tutta la vostra vita per quel che riguarda le spere del Dragon Ball quando io l'ho messo l'ho scritto nei finali più belli tu mi dici che merda no beh io ho detto che non lo so però di te sto parlando di signorino occhialuto ma non credo però ho detto che è una merda il finale di Dragon Ball Super per me invece è un finale estruggente è un finale bellissimo perché ti spiega il significato di Dragon Ball nel senso avete tutti quanti fatto troppo affidamento a ste cazzo delle sfere per tutta quanta la vostra esistenza io non posso la sfere vi hanno corrotto e io non posso far sì che voi continuate su questa strada quindi basta esatisci l'ultimo desiderio le sfere finiscono qua e Goku va via finalmente no no quello è bello che diventa un tutt'uno quelle sfere e diventa una divinità e poi c'è dopo c'è la tua scena preferita la scena in cui Goku si perde nella folla quella è bellissima no no c'è un'altra tua scena preferita di quella non ne parli ah quella con Krillie quella con Krillie bellissima scena quella che ripercorrono nei momenti belli il finale il finale finale c'è un altro bug quello con i bambocci con i bambocci i bambocci non potrebbero trasformarsi in Super Saiyan no perché panna non si trasforma in Super Saiyan non ti viene fatto vedere perché panna non si trasforma in Super Saiyan si vede che in quel momento non è abbastanza forte trasformarsi in Super Saiyan no perché non ha abbastanza cellule Saiyan ti fa capire anche l'autore ha detto che per trasformarti in Super Saiyan devi essere metà umano metà Saiyan se si va ancora sotto nella linea gerarchica cioè se diventi un quarto esatto non hai questo potere quindi quindi non ci sarà mai più un Super Saiyan quindi teoricamente non ci sarà e il GT l'hanno messi vabbè ok questa cosa non la sa più vabbè viene messo poi vabbè non è una cosa che sta nel manga nell'anime quindi l'ha detta Toriyama Toriyama spara un sacco di cazzate quindi va bene così però tendenzialmente sì anche perché Toriyama furbescamente evitato di di fare dei ah beh no però aspetta scusa cosa no chiunque solo a metà no no c'è l'altro l'altra figlia di di Vegeta e Bulma bra lei però lei è una che ti fa capire che non è interessata al combattimento no però però se lei si potrebbe no se scopano lei con con Goten o con Gohan oddio forse si non lo so c'è ancora c'è ancora stirpe Saiyan e quindi vabbè non sai come sono andate cioè quindi se spari tra puro sangue rimani Saiyan questo mi stai a dire diciamo che devono essere metà e metà cioè o un Saiyan è un umano oppure metà e metà eh però è l'unico modo che fa metà e metà perché l'unica donna è bra è che uno gangbang uno va con bra per forza vabbè Goten 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 tra l'altro tra l'altro Goten è un completo rincoglionito però nel senso eh beh sì ma l'altro non ti viene detto chi è l'altro tu tu non tu stai dando l'altro chi uno è il nipote il pronipote di Pan Vegeta Junior e Goku Junior cioè guarda il seno non mi dice Vegeta Junior è certo del Vegeta Junior è certo perché lo deduci o non è certo perché l'ha detto no no l'ha detto è Vegeta Junior poi guarda caso si incontrano lì oh ma anche tu ti puoi trasformare in Super Saiyan ma sì anch'io nel tempo libero mi sono trasformato e quella cosa è una cosa che ricordano pura Z pezzi di merda Goten e Trunks che da bambini si trasformano in Super Saiyan è vergognosa una cosa prima era la cosa l'ascesa la leggenda ma infatti per quello secondo me comunque sia la saga di Baby sta sopra sia la saga di Cell sia quella di Machin Bo dopo Freezer guarda la cosa bella di Baby è l'inquietudine che ti mette è la prima volta in cui effettivamente c'è inquietudine perché effettivamente vengono ammazzati tutti e la terra viene distrutta effettivamente quindi ti è ritornata un po' quella cosa però è l'unica saga che secondo me si salva le altre sono merda in Dragon Ball chi muore tanto resuscita se viene invece mai incontrollato forever potrebbe essere peggio di una morte in Dragon Ball sì 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 ma è anche bello che ci sono tutti contro Goku Goku è rimasto l'unico però anche Vegeta come si fa intortare come tutti si fanno intortare dai vabbè c'è una motivazione molto più forte alla base ho capito però c'è nel senso vabbè comunque per me GT è merda tranne il finale e la saga di Baby non tutta però diciamo che ci stanno degli spunti carini è tutto un rimando soprattutto ma zero sub ma la vogliamo fa sta maratona oppure no è vero zero sub cioè qua i pupazzi e cose faccio i ship e sto a morire è perché soppieni di polvere sto a morire con sta storia no comunque a parte scherzi cioè tu devi capire che tutta questa saga ha la bellezza di essere un qualcosa che ti fa ricordare quello che è l'inizio di Dragon Ball tu guardando questa saga non stai realmente guardando questa saga tu stai ripercorrendo attraverso una messa a schermo di qualcosa di completamente differente tutto quello che è stato Dragon Ball allora io ti do tant'è che la conclusione finale è la conclusione di quello che hai visto oh bravo Vincenzo bravo Claudio bravi ragazzi maia che pulciaro che sei maledetto Claudio perché pulciaro? perché io devi dire a Claudio vabbè magari si è scordato ma che vuol dire grazie ragazzi e qui ma la cosa chi è arrivato ah sì Claudio e la cosa bella invece è proprio ok la top la top la cosa bella è proprio cioè io una cosa su cui mi sono soffermato che tu non la dici perché sei una persona povera di no però aspetta volevo rispondere una carrellata di immagini finali volevo rispondere a quello che dicevi te quello che dici te è giusto nel senso loro allora ci avrebbe avuto senso ripercorrere le storie di Goku se ti fa cagare perché hai tutte le statuine giusto? ero piccolo però da piccolo ti è piaciuta? a me da piccolo piacciono le statuine di Dragon Ball che ragionamento è? comunque poi Dragon Ball è tra oh grazie benvenuto appunto esclamativo Telegram tutti quelli che fanno sub il primo mese per entrare nella di Magi House tutti quelli anche retroattivi se siete eh puntesclamativo i forum contro Code Geass ci sono cioè vanno frame by frame per capire quanti passi fa su Zago è una cosa seria si parla si parla di Guinness World Record di salti su muri di camminati su muri eh no perché perché parkour non esiste ma chi è che cammina orizzontale non esiste ma è il cazzo come al solito se arriviamo a 10 sub reddit io ve lo dico se arriviamo a 10 sub reddit eh sì ma 3 non sono 6 e sono tutt'uri alla fine del sesto far salto sul muro cioè lui fa in diagonale sesto da sesto salto cioè quella è una cosa che non fa nemmeno quinto da quinto salto e comunque sia vabbè salto carica salto soffitto svorbiciata volante non è che fa popone non è che dice sub vabbè comunque comunque basta no è lui l'ho sentita mille volte avevo fatto partire il treno eh ragazzi dai se arriviamo a 10 sub vediamo il reddit comunque sto dicendo aspetta no stavo dicendo io ma non sai stavo dicendo che l'idea ci sta di Dragon Ball GT ci sta è carina però mi dovevi dare un espediente narrativo secondo cui tutti tornavano bambini ma tornavano bambini nel senso che non si potrebbero trasformare in Super Saiyan perché tutti Goku è bambino il primo bambino uguale Goku è quello che a te interessa vedere perché nel momento che gli altri hanno lo stesso ideale di potenza mi leva il pathos delle scene e mi viene soltanto a dire quando finisce sta merda perché per tagliare i baffi del tizio e vai in giro con le forbici giganti non mi dai pathos non mi dai niente mi ripercorri na merda perché so che quella cosa potrebbe finire in 5 secondi in passato non era così perché Goku non poteva farlo effettivamente chiuso il discorso ma l'idea che c'è alla base è che tu devi ripercorrere semplicemente quelle che sono le narrazioni che sono state fatte tu ti concentri troppo su sta cazzo di cosa di livelli ma quella è la linea comica chi cazzo è che si traveste Yamcha si traveste da sposa chi è che si traveste da donna anche perché ti posso dire meglio Trunks si traveste da sposa che Vegeta che fa i balletti per Virus ah no vabbè no ma a me è Trunks vabbè però lì c'era lì però lui ha tanta paura che si umilia Vegeta talmente tanta paura si caga sotto ma Vegeta preferisce morire vabbè però ci può stare che incontri un tizio che ti fa paura per una volta anche perché è legato a un trauma ma non è perché è bellissima la scena in cui lui si ricorda lui si ricorda di Virus che praticamente tiene il padre sotto al piede quella scena è molto bella ma non è quindi ci può stare che sia un trauma non si mette a fare i balletti vabbè ma magari gli fanno paura i ranni gli faceva paura cosa il senso di quella il senso di quella scena io non mi ricordo chi è all'inizio se non era Armaiale o se era Yamcha che si travestono da donna ti sta facendo rivedere quella cosa tu ti sei concentrato sui livelli di potenza io in parte lo posso pure capire ma stai perdendo il senso che c'è dietro all'ironia con cui è stata fatta tutta l'opera è un'opera ironica normale che quello sia più forte ma c'è un'ironia top 5 delle top che avete fatto ma no l'hanno già scritta no l'abbiamo già messa dentro si c'è uno già l'ha detta cambia e quindi tu lo devi dai che c'è l'ip train ragazzi 10 sub reddit allora tu la cosa bella è che lì invece devi perdere ti devi perdere completamente in queste cose devi vivere quella che è l'ironia che è un intento tutto ironico è ironica dall'inizio alla fine ma me l'hai contestualizzata male se fosse partita solo pan ah ti dicevo ma non puoi mettere solo pan a schermo oppure mi metti Goku che effettivamente è bambino che non può ritrasformarsi ma no perché tu la stai prendendo dal punto di vista serio ma quando giocano a dati che cazzo di senso c'ha quella cosa che giocano a dati è una merda ma è una cosa ironica ascoltami ti vuole far ritercorrere e non riesce dietro è tutto ironico Goku prova a fare il teletrasporto ma non ci riesce no lui non può ti dice qua che non può fare il teletrasporto perché è una cosa che hai imparato da adulto bravo però questa cosa e perché può trasformarsi in Super Saiyan e c'ha ragione si ma io non ti dico di no è tutto un bug quella è soltanto per trama loro ti mettono la cosa del teletrasporto per trama perché se no sarebbe finito in due secondi ma è una merda no è ironico questo non riesce a fare è tutto ironico è una merda ma è ironica tutto gt è ironico questo è provare a mettere una pezza una cosa per farti tornare la trama e fallire perché non ti sei reso conto che se fai così altre cose non dovrebbero succedere ma tu guardi esatto ma poi sarebbe tornato tutto se lui diceva oh io ho la forza di quando ero un bambino no no Cla no 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 se tu mi dici oh lui ha la forza di quando era bambino e parte con pan allora di lì me le puoi fare le scene comiche bellissimo ma le scene comiche sono comiche a prescindere no la cosa dei fratelli parabari no perché la cosa dei fratelli parabari è comica a prescindere dal fatto che lui possa tranquillamente essere più resistente della canzoncina ma tu quando guardi quelli che fanno quella cazzata semplicemente stai a pensare guarda sti coglioni sai che mi ricordano sti coglioni che fanno sta cazzata che non c'è senso questa è la squadra arginio che fa le pose che quella è stata cacciata perché non saprà fa le pose deve essere una cosa ironica tutto Dragon Ball GT è ironico nasce con intento fortemente ironico l'inizio poi la saga di Super C17 dimmi l'ironia di Super C17 dimmi l'ironia di Baby dimmi l'ironia dei draghi non c'è i draghi non sono ironici sono solo quello delle mutande no gli altri e il drago scarso Super C17 Baby Super C17 Baby che è la saga più bella quella è una parte che quella è stata volutamente non c'è ironia non c'è ironica è osso 64 puntate me lo vuoi fare così me lo fai così ma gogetta che far cazzone è prendere per il culo tutta quarta la parte i draghi guarda che sti coglioni quando si trasformano lo fanno i cazzoni è quello tu non mi puoi mettere l'ironia in una saga nell'altra me la levi poi me la rimetti no ma guarda che pure in Super C17 c'è l'ironia mo non mi ricordo precisamente quanto ma ci stanno gli episodi in cui pure lui quando è Super C17 è tipo mezzo cazzone mo non mi ricordo precisamente come pure nella saga di Baby lui è Baby e Vegeta è tipo mezzo ironico fate le cazzate semplicemente lì a schermo più sulla bellezza del fatto che hanno creato soprattutto tu bevi una saga figa ma tu quando guardi la saga del gigante cordente dici ma che è sta cazzata ti metti a ride ma è fatta apposta mi vuoi dire che ti ha divertito cioè tu ti sei messo a ride ma non un uomo di 32 anni non si diverte ma io bambino si che mi sono divertito era carino era divertente per un bambino no perché lo sai cosa pensa il bambino ma perché non si trasforma in Super C17 ma che cosa pensa un bambino questa che è il bambino lo pensa il bambino lo pensa io da piccolo io da piccolo già rosicavo in Z oppure quando vedevo gli A.O.V gli A.O.V che mi facevano incazzare da morire perché ci mettono 30 anni per trasformare in Super Saiyan perché facevano finta di combattere blandi esatto perdevano tempo e tu dicevi fa spagli il culo trasforma in Super Saiyan che stai aspettando esatto dai è vero ma quella della setta satanica in realtà semplicemente ti accorgi che quella non è una vera setta satanica sta prendendo per il culo perché loro venerano una macchina cogliete l'ironia del venerare una macchina vabbè è quella la cosa è futuristica ma cosa è futuristica c'è un po' che senso anzi il tizio quello lì il sacerdote è praticamente il tizio di come cazzo si chiama i cavalieri no il secondo Indiana Jones lo ricalca il sacerdote del secondo Indiana Jones dai allora io ti ripeto non me ne frega il cazzo e tu mi metti 200 citazioni se poi vengono contestualizzate di merda io faccio il una serie o taxi o taxi cioè lui non è taxi è una certa si vede Pendragon che vola ma cosa c'entra Pendragon è tutto è tutto decontestualizzato no no perché questo è Dragon Ball che cita se stesso che cazzo dici ma lo cita male ma per un vestito te un tizio era un percazzo perché hanno messo poi è simile non ti ho detto quale mi pareva fosse simile l'unica citazione vera è quella Star Wars vabbè quella è una chicca che hanno voluto mettere ma di un episodio di merda che non so con cula nessuno quella è una chicca che hanno fatto ma tutto il resto i baffi è per taglio della coda di Dragon Ball ah si devi accettare il fatto che Dragon Ball GT e lo so che tu lo pensi no fa cagare no perché io non lo guardo con intento realistico io non ho guardato non ho mai guardato Dragon Ball GT pensando eccolo guarda Dragon Ball GT c'è la trama di qua buco di trama perché Dragon Ball GT non nasce e allora non puoi criticare Matrix oh adesso eri a Matrix no 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 vabbè l'aveva citato te però però c'è il Judgment Day su Matrix ah poi parleremo anche di Matrix però sappi che chiosa la margine c'era nel passato i primi 20 minuti di Matrix sono no abbiamo parlato solo di Matrix no si si che cazzo ci non abbiamo parlato di Matrix no è vero dici stai dicendo una cazzata no si si vai avanti non abbiamo mai detto che daremo vai avanti dai dire le tue cazzatine no no ok i primi 20 minuti di Matrix hanno senso di esistere il problema è che Matrix poi non diventa più una citazione a se stessi abbiamo detto che ne parliamo al Judgment Day infatti è una chiosa a margine 30 secondi poi non diventa più una citazione non rimane citazionistico non rimane una parodia ma perché la Warner ha cercato di fare un intento serio dal punto di vista Warner per fare le saghe non è vero perché dopo ci stanno anche riferimenti a fare attenzione a una parodia però va bene andiamo avanti basta che sto a dire Dragon Ball GT che voto gli dai Dragon Ball GT se la guardi da un punto di vista ironico è un 8 perché è ironico cita se stesso continuamente prende per il culo se stesso in continuazione e poi c'è il finale bellissimo hai dato 7 e mezzo a Colghias cioè quindi per te da 7 e mezzo 8 è bello merda no non è quello se devo vedere se devo prendere in consigliazione solo l'aspetto soltanto l'aspetto ironico dell'opera per l'ironia che ti porta a schermo e per il fatto se vuoi vedere quello che vuoi tu è quello che ti sto dicendo l'ironia va contestualizzata One Punch c'ha un'ironia contestualizzata Dragon Ball ma One Punch è serio nel suo essere ironico è serissimo cioè è un'ironia è una ironia sarcastica non è questa ironia questa è peffarite quello no esatto quello è per farti pensare quello prende per il culo Dragon Ball è il problema ti rendi conto che i tizi fanno a 55 lo ripeto finché non mi fai no perché tu non stai capendo la differenza che sono due ironie con diverse sono e ti ripeto e ti ripeto che andrebbe bene questo tuo ragionamento se fosse tutto così ma all'interno ci sono delle saghe serissime quindi crolla tutto e non è dopo è in mezzo c'è parte divertente parte seria saga di C17 che è seria ma è fatta malissimo parte divertente merda c'è la io perché non mi ricordo tutti gli episodi ma ci sono parti comiche in tutte quante le saghe pure la saga del generale Lilde con quelli che fanno la trasformazione mi stai prendendo le pregamenti ccuta e parlami di ma non me le ricordo poi muo le vado a vedere domani e te lo dico e ci sono mi ricordo dei pezzi in cui Super C17 fa il cazzone pure lui ciao grazie mille è tornato il secondo è il più importante il secondo è il più importante la cosa che tu devi capire è che se tu la guardi con questo intento ironico sei team media forever chi è adesso team media no team media non esiste o ti banno no vabbè ma non ti preoccupare che quel sai cosa sono i mediatoriani faccio un esempio che calza a pennello sono quei quattro sfigatelli all'inizio che fanno i cavalieri neri purtroppo io non sono io sono peggio di Cornelia io li estirpo tutti alla radice tutti perché con me perché alla fine i cavalieri neri conquistano il mondo ma per quanto mi riguarda tu quanto dai a Dragon Ball GT dopo questa discussione ma guarda io a Dragon Ball GT gli do un 6 meno cioè non arriva a sufficienza però secondo me la saga di Baby salva cioè alla fine non è così così vasto Dragon Ball GT lo 64 esatto e poi c'è il finale bellissimo il finale il finale è proprio quel il finale è quello che tu vuoi vedere secondo me Baby è il terzo miglior cattivo di Dragon Ball quindi ma sì ma perché la cosa bella perché poi ma perché il finale il finale è l'unica cosa che conta lui ti ha fatto vedere una cosa una messa a schermo così e poi ti dice guarda che in realtà è tutto quello che ti ho fatto vedere te l'ho fatto vedere soltanto per farti capire che cosa in realtà è Dragon Ball te lo fa vedere attraverso una chiave ironica ma poi dice ste cazzo di spere che cosa servono le spere ma Super non è da 6 no Super è molto peggio Super no Super è un amico da 6 Super è un amico sta lì eh sì 5 4 e mezzo sta lì eh siamo 4 server quinto c'è bimbo in panza no c'è anche perché ma perché l'intento è serio di Dragon Ball Super Dragon Ball GT non ha un intento serio è quella la differenza ha distrutto il miglior personaggio di Dragon Ball ovvero Freezer e questo è già un'unta proprio non gestibile ma poi anche il il tornato del potere che ha un potenziale enorme perché ha fatto un all-in perché è proprio l'apice in Dragon Ball sei riuscito a farlo una merda tranne gli unici due combattimenti in cui non fai sempre universo 7 contro X universo 7 contro X che in universo 7 sono 10 universi ma gli universi 7 sono gli unici che buttano fuori la gente no ma per me la sfida Dragon Ball GT Dragon Ball Super è una sfida tra poveri sì ma chi vince esatto chi è più povero Super ma perché l'altro dura di meno è più concentrato ciao Levi benvenuto benvenuto grazie mille puttosclamativo Telegram se vuoi entrare in gruppo appena arriva Falco Levi se vuoi blastare Maggi su Dragon Ball quando te pare arriva ma no ma perché loro hanno quelli che danno 7-8 e che hanno capito l'intento ironico se sono divertiti questa così pare che stai rosicare no con l'universo parallelo hai vinto io non perdo nessun universo conosciuto sei stato annichilito proprio non hai saputo rispondere a una cosa a tutti i bug la tua risposta è solo intento ironico se capisci quella la base capisci che parlare dei bug non c'ha senso questa cosa ti ha rovinato tutto Matrix 4 comunque parliamo di Matrix 4 io non vedo l'ora di Matrix 4 c'è addirittura del Team Livio cioè se c'è del Team Livio vuol dire che proprio hai perso male dai top 5 time top 5 time ricordiamo che salvandoti al canale o con 300 bit puoi partecipare all'estrazione e puoi mettere una tua top 5 nello scrigno segreto alla fine della live verrà estratto un bigliettino magari sarà proprio la tua top 5 e noi saremo costretti a rispondere prendendosi il blastaggio degli altri sono te stessi non so ahhh alè alè dammi una matita dammi una matita che mi taglio le matite sui cinti RP vabbè mica e bannabbi cantare una canzone top 5 personaggi secondari di Attack on Titan secondari vabbè secondari di Attack on Titan il primo è lui ta ma che palla Attack on Titan io sto aspettando il giorno in cui Maggi sbrocca e tira un cartone a Livio evento chiaramente imminente evento drammaticamente ironico assolutamente sì no ma in realtà in realtà vi comunico vi comunico una cosa perché o io ho pensato una cosa visto noi facciamo i livelli di combattimento no chi vince secondo voi è uno scontro tra me e Livio e vi sorprenderò chi potrebbe vincere e vi spiego anche perché vincerà Livio contro di me lo sapete perché vince Livio contro di me? perché voi guardate questa cosa e empatizzate per lui giusto è vero e questa cosa la farei anche io quindi nel momento più basso mi farebbe pena esatto e lo farei vincere lo metterei lì alla cogna lui sai lui è tipo King capite King contro come cazzo si chiama Homeless Emperor lui è Homeless Emperor che a me manco prova ad avvicinasse e si autonerfa da solo fino a invecchiare di cento anni in un giorno come contro Meruem e io lì mosso da compassione eh semplicemente dico vabbè dai hai vinto ma Maggi sei ripianpetto per questa per questa top 5 nel frattempo e scriviamo vi ho lasciato una perla che Maggi mi potrà prendere per il culo per il resto della vita ma queste sono cose carine questo è il primo concerto l'ho già fatto vedere anche oggi live per me ma ce l'hai dei fantasia ma le live del pomeriggio sono anche un spunto di riflessione vi faccio vedere il gruppo il primo gruppo di Livio dove c'era il cantante non sapeva cantare il bassista non pervenuto perché sta nell'ombra e non si vede il secondo chitarrista che si è perso il plettro e quindi suona male e il chitarrista che stecca tutte le note l'unico decente è Livio Livio è quello che suona la batteria modestamente e vabbè perché non avevo concorrenza cioè non è che c'è tanto a dire perché non avevo concorrenza quindi beccatevi tutti con gli stessi capelli ma quello è Sergio quello è Sergio wow beccatevi questo capolavoro e la cosa che mi ha fatto ridere è che alla fine c'è il pubblico in delirio wow perché lì per lì sembrava che avessimo sentite quello è il zoppo quello è il zoppo oh Gesù regà è lui è lui lui è quello che non si è visto Code Geass quando c'eravamo promessi di vedere se io io e Vangeli non li di Code Geass è lui lui il cantante il traditore maledetto con lui che ti ha perculato vergogna ti ha perculato no è il traditore della patria sì sto col telefono sì eh no però dico la voce è molto più bassa perché il telefono magari prende la batteria non prende 20esimo lo senti non lo senti una voce lo senti non lo senti io sono dickacje condividuel sentite tiственico Io sono il batterista a 15 anni E questa canzone Fa veramente pena Qua c'era il bassista Non pervenuto Risucchiato nell'oblio dell'ombra Sentite alla solo Quante note stecca Cioè vi senti a guitariro quando sbagli Che fa No perché non ho mai giocato a guitariro Ok E questa canzone No, 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 no Ma io non ho messo il tuo Per rispetto non ho messo il tuo Allora, parto da un presupposto Per me Levi è un personaggio principale Ebbè pure Erwin a sto punto No, beh, no, no Erwin muore a metà saga Allora anche un altro Vabbè, sti cazzo lo lascio Vabbè, secondo me i loro tre E Levi sono i personaggi principali Beh, allora, no, adesso è principale pure La cosa con l'occhio solo Scusa, eh E Ziki non è un personaggio principale? No Ziki appare per metà Cioè, è l'antagonista Se vogliamo, però boh Vabbè, se volete mettere Levi Io non lo ho Per me Levi è protagonista Ma come sono protagonista pure gli altri Questo intendevo dire Allora, al quinto posto Al quinto posto Anche se ci sono altri personaggi Che magari A livello di caratterizzazione Mi sono piaciuto anche di più Però ci ho messo Yelena Perché Yelena È un personaggio Che nel poco tempo Che viene messo in scena Riesce a trasmettermi disagio Cioè Yelena Anche nella prima parte Tra l'altro Secondo me nel manga Ancora meglio che nell'anime E Anche quando Palesemente fa cose A loro favore E Percepisci che c'è qualcosa che non va Cioè ti senti a disagio Quando Un po' quando si parla con te Cioè lei Va bene Mi piace Mi piace Mi sento un po' a disagio Mi piace Questa mia aura Negativa Sì sì Va bene Al quarto posto Piek Bellissima Bellissima Ah no Piek Piek è fantastica Il gigante carro Il gigante carro Il personaggio incredibile Mi piace Mi piace Mi piace Cioè è come scriverei Un personaggio femminile Mi piace Il suo Mantenere un basso profilo Il Non spettacolarizzare niente Però È estremamente intelligente Estremamente pragmatica E Molto fedele alla causa Che però è la causa Che va Al di là Degli ordini Che gli vengono dati Al di là È l'unico gigante Che riesce a combattere E in sintonia Con Dei soldati E Molto bello Anche la caratterizzazione Il fatto che lei Può rimanere per mesi In forma gigante E quindi poi Fa fatica a camminare Quando torna Bella Ed è uno dei pochi Se non l'unico E può parlare No è pure il bestia Parlo Sì Ah è vero il bestia È il bestia E poi al terzo posto Ho messo Rainer E Vabbè Ma non è Personaggio secondario Rainer Io pure ho messo Rainer Ma che cazzo Personaggio secondario Però scusa Se Levi secondo me È come Rainer Ma sì Ma sta molto di più a schermo Rainer È molto più importante Di Levi Oh cazzo No ma dai Levi Stai parlando dell'anime O del manga Pensalo Ma di tutte e due Eh allora che cazzo Non lo so Fa un po' te No ma anche Solo nell'anime Eh c'è cazzo Fa un po' te Vabbè Vabbè dai Che te frega Oggi oggi non sta in forma Il Baleone No Ma ho capito Ma ho detto Levi non è il personaggio principale Tutti quanti a cancellare E poi mi rompi il cazzo su Rainer Eh non è in forma No io Io ad esempio Avrei messo Sia Levi che Rainer No no per me Però l'ho lasciato Perché anche Per me pure Armin È un personaggio Eh certo Il personaggio principale Ma Erwin cosa Che muore a metà No Erwin no dai Non è a livello I Levi E Rainer E Rainer Ehm Vabbè Comunque vabbè Ne abbiamo già parlato Di Rainer Più volte Un personaggio molto bello Bipolare Ehm È la rappresentazione Di colui che Parte con Una convinzione E quando torna Poi si rende conto Che Quello che ha visto Gli fa cambiare Totalmente La sua visione Gabbio è un personaggio Secondario Assolutamente sì E l'ho messo Come secondo Ma come va Ma appare soltanto In una stagione No è il secondario Ma come Ma che vuol dire Vabbè ma no Sono tutti principali Se Gabbio è principale Ma come no Vabbè vai E' l'importanza E' l'importanza Ma no non è vero I personaggi principali Sono quelli che stanno Di più a schermo Vai 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 Vabbè Ehm Con cui al secondo posto Gabbio Gabbio è fighissima Ehm La odi Perché è giusto Che tu la odi E poi però Rispetto Agli altri Si redime E cambia Il suo modo di vedere Perché è ancora una bambina E quindi perché è ancora Quella capacità Di Non attaccarsi All'orgoglio Delle idee Che ti hanno formato Quando eri piccolo Man mano che cresci Più vai avanti In la tua vita E più sei poco disposto Ad ammettere Che una convinzione Che tu hai sempre avuto In realtà è una cazzata Un bias cognitivo E la realtà È totalmente diversa Invece Gabbio riesce Ad andare oltre Questa cosa In maniera anche Abbastanza Struggente Perché con cui si ha Commenzi A forza Si è commessa Di parlare Quella italiana Che la uso Quando serve Invece di abusarne Io posso E ok Vabbè Il primo posto È l'unico Inimitabile Incredibile Magnifico Colui il quale Se fosse ancora vivo Non avremmo Nessun tipo di problema Sti cazzi Vedi il futuro Guardi Erwin è più figo Erwin ovviamente E vado io Oggi farebbe l'ultimo Perché se no mi copi No ma in realtà Come le ho già scritti Che te copio Ma in realtà no Vabbè ma tanto io li dico Anche se gli dite Ma io sono concettuale Quindi tu non potresti mai Eh non credo Al numero 5 No Fiete Su me non ne hai messo neanche uno Vediamo Al numero 5 Il personaggio interessante Sviluppato bene Che Quando dice così Vuol dire non sa che cazzo di No 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 Tipo sto personaggio Mi piace Perché Perché È in linea Con l'idea Che c'è dietro A tutta quanta La teoria Che si sviluppa Di Attack on Titan Sul fatto di cambiare idea Perché davanti Non hai un mostro Non hai realmente un nemico Come una persona Come la sorella di Sasha Molto molto bella La sorella di Sasha C'è tutta la cosa Che lei cambia E poi si riappacifica Con quelle che gli ha ucciso La sorella Bella quella cosa Estruggente Perché lei si rende conto Davanti Che dopo che Gabby Gli ha detto Voi non siete i mostri Siete delle persone Come noi Alti e bassi Bellissimo Beh in realtà La vuole uccidere dopo No dopo fanno pace All'ultimo Dopo dopo All'inizio Sono amiche Adesso hanno fatto pace Adesso sì Hanno fatto pace Però prima Anche se Gabby S'era redenta Lei Ok ok Ha ucciso la sorella Però è una convinzione Che matura nel tempo E capisci Che comunque alla fine Davanti a sé Non ha realmente un nemico Ma una persona Che è vittima degli eventi A cui è stato fatto Il lavaggio del cervello È un broso 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 Il numero Quattro Questi belli Questi personaggi importanti Seconda Il comandante Pix Pixis Pixis E l'ho messo anch'io No Non capisci un cazzo Pixis è bellissimo Allora Spiegami il ragionamento logico Secondo cui io metto Lo stesso tuo E non capisci un cazzo Vabbè tu non capisci un cazzo A prescindere E Pixis è bello Perché comunque Vabbè È proprio Ecco Una fatica Spiega È bellissimo È bellissimo È bellissimo Quello dopo Quello Bebs dopo Al numero tre Un altro personaggio bellissimo Un altro personaggio di quelli che appare poco Ma ti fanno capire come in realtà Grazie a lui molte cose si vio Poi il Gufo Il Gufo è bellissimo Io non volevo mettere il Gufo Poi ho scelto Yelena Il Gufo è bellissimo Il Gufo è bellissimo Poi tu scopri che in realtà Questo Sta facendo noi il doppio Ma a volte anche il triplo gioco Perché lui in realtà Non è cattivo Ma si comporta da cattivo E poi in realtà scopri che lui Non fa quello che fa perché Lo fa attraverso una motivazione Ma lo fa perché qualcuno gli ha detto E ricordati che devi salvare Ricordati Che devi salvare Mica Mica sai Sì questo non si Lo dice nell'anime Non cagare il cazzo Al numero due Ecco questi personaggi belli Che cazzo ne sai Questo non faccio spoiler Perché diventerà bello Molto più in là Che è il generale quello di Marley Che si chiama Magat Il generale quello lì Magat Magat Quello lì Generale Marley Bellissimo Bellissimo Personaggio fantastico Ecco colui Che Riesce Ad andare oltre Le proprie condizioni E a capire qual è La veramente La banalità della guerra Tant'è che poi farà Una cosa bellissima Alla fine E la fa insieme Al personaggio più figo In assoluto Di tutto quanto Attack on Titans La fanno insieme Perché si capiscono Tra persone fighe Si ci capisci Si guardano Loro si guardano e basta Non dico niente Loro si guardano e basta E capiscono che effettivamente Si sono trovati lì Per un motivo Perché avevano capito Hanno fatto lo stesso percorso Logico mentale Lo stesso ragionamento Che li ha portati In quel momento A condividere Nonostante Nascano da fazioni diverse La stessa idea Del perché Devono essere lì Del perché Devono fare Quello che faranno Senza fare spoiler Ovvero Distruttore Shadis Bellissimo Shadis è bellissimo Di questi quanti Ne hai messi uno Sapeva anche Che cazzo era Del generale di Marley Ma che cazzo vuoi E non lo sapevi Ma che cazzo sai Gufo te lo ricordavi Ma certo Maggi Ne parliamo sempre Di Gufo Ma ne fa il balavutino Fuori un niente Si parla T'accontente Parliamo del Gufo Ma sarà Falco No vabbè Gufo è meme Però Non ne parliamo Il Gufo C'ha il legame Relazionale Allora Al quinto posto Pixis Avevo messo anch'io Mi piace molto Vabbè Esatto Bellissimo Quella scena è bellissima Curiosi Guardano e dico Al quarto posto Ho messo un personaggio Chi era al quinto Che hai messo Pixis Al quinto Al quinto E tu l'hai messo al quarto Maggi Vabbè ma ho capito Sopra che ho messo Gente più fida Ma che ne sai Ma che cazzo ne sai Dai Quarto Maggi Il peggio di Pixis Kenny Ackerman Kenny Ackerman Bello Kenny Ackerman Il pistolero Il pistolero Un cowboy Bellissimo Bellissimo Kenny Ackerman Dai Kenny Ackerman Terzo posto Io se mi considerate Rainer Un personaggio Io ho messo questo Io ho messo Zeke No ma invece Sì Alla fine Prende importanza Nell'ultima Ma compare Dalla seconda stagione Dalla seconda stagione Prende pure Rainer Ma Rainer Rainer è protagonista Tanto quanto l'altri Secondo me non è Proprio principale Secondo me Vabbè Comunque Zeke Secondo me è bellissimo Come Le sue idee Tutto Lo vedi in tutte le situazioni Preoccupato Fiero Lo vedi in tutte E' bellissimo Secondo posto L'avevo messo al primo Ma l'ho scalato al secondo Perché l'hai messo tu Rainer Per me è bellissimo Rainer Tutta Psy Psy Tu sei banale Io Sono andato a cercare Tutti i personaggi banali Banali Ma al primo posto Il mio personaggio preferito Banale Chi è? Ti chiama banale Sì Banale Il mio personaggio preferito Secondario Annie Annie è bellissimo Annie c'è Allora Non è caratterizzato Forse Al 100% Perché compare Gianni è secondario Connie è secondario Sasha è secondario È una donna Con una cazzimma Historia è secondaria Secondo me è meglio Angie di Annie Angie mi sta sul cazzo A me invece sta simpaticamente Perché l'ho visto anche Doppiato in italiano E prima E ora l'ultima ovviamente E mi sta sul cazzo Beh Flock Annie invece è una Contro coglioni Anche tutta la storia col padre Però Flock Secondo me È un sotto insieme di Gabby Cioè Ha un ideale Simile a quello di Gabby Però lui non ha Cioè Lo porta avanti fino a fine Perché lui Ha il controllo di Gabby Non conosce l'altra parte E quindi Flock rimane Invasato E fedele A Alla missione Di distruggere tutto Ma sì 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 Però ti ripeto Cioè Non so Io empatizzo molto Con questi generali Che poi sono i personaggi Più importanti Perché sono quelli che capiscono Concettualmente Capiscono concettualmente L'idea del sacrificio Questi altri merdini Non hanno questa Tempra morale Perché Il valore del sacrificio È qualcosa Di importante Nel senso Tu arrivi a compiere Un gesto del genere In quelle occasioni Vuol dire che comunque Sei una persona Con una tempra E una carica mentale Una forza di volontà Cioè tu Livio Ma che cazzo fai Tu nella vita Tu guardati Mannaggia Dice Livio Compi un gesto Per la popolazione Livio Un gesto Per la popolazione Per l'umano Da questo Questo mi dicono 25 sabbi Capelli blu O anche 10 Per la popolazione Per la popolazione Per la popolazione Per la popolazione Quasi ciò non